Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. I criminali non vanno romanticizzati. Non sono materiale da film. Perché quell'aspetto narrativo, per quanto emozionante, ben fatto, sarà sempre distante. Dalla realtà. Al punto da arrivare a infastidire i diretti interessati prima o poi. Soprattutto quelli che non si sono pentiti. Quelli fieri di quello che sono. Quelli che il mestiere lo fanno per soldi ma fino a un certo punto. I cosiddetti banditi, non criminali qualunque. Gente che si identifica in un certo movimento. Che non è sociale o politico o altro. È uno stile di vita. Un'attitudine. Non chiamatelo nero. Non chiamatelo samurai. Ma non chiamatelo proprio. Lui non ama essere al centro. Anche se da una vita la cronaca ne parla ampiamente. Chi nasce dall'ideale, sia discutibile o meno. Chi cresce in un'Italia che non è quella di oggi. Ma che in pochi anni passa attraverso fatti che sono indiscutibilmente già storia del paese. Chi li vive da protagonista, che sia vero o falso, passa alla storia come l'anello mancante tra l'etica morale e il caos. Un volto, un nome, che porta dietro sé la consapevolezza di aver vissuto cose che nessuno saprà mai. Terra di mezzo, mafia capitale, banda della Magliana, anni di piombo, strage di Bologna, nuclei armati rivoluzionari. L'imputato è sempre lui e alla fine viene quasi sempre addirittura assolto. In due parole, Massimo Carminati. 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 Senti, ascolta me, io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome, Massimo Carminati, segnatelo, capito? Segnatelo, io sono quello che abita là. Prima di arrivare un attimo alla storia di questo personaggio, che è uno dei più affascinanti sicuramente da raccontare, perché comunque attraversa più fasi della storia dell'Italia moderna, io voglio soffermarmi su un aspetto, ovvero perché continuare? Cioè, se un personaggio come lui inizia, ormai veramente 40 anni fa, inizia e lentamente fa vari reati, varie cose, imputtato qui, imputtato là, schioppava 10 banche al mese, e quindi comunque non c'è un motivo solo economico che ti muove a fare questo mestiere, perché la gente si alza, va al lavoro, perché comunque vuole guadagnare e portare a casa la pagnotta. Massimo Carminati, io non credo che abbia questa esigenza. Ecco, dopo il furto dei cavò, ne parleremo in seguito, io credo che un bandito possa fermarsi. Hai già dato, hai fatto più di quanto veramente si possa fare in una vita intera, il tuo nome è legato in maniera indissolubile a Roma, ai vertici di Roma, alla storia della Roma criminale, perché continuare? E' proprio questo il concetto che poi ha portato, diciamo, Massimo Carminati nuovamente alla ribalta della cronaca, mafia capitale, no? Questa grande indagine che poi lui rischia, adesso è nuovamente libero, per modo di dire, perché comunque libertà vigilata, eccetera, però rischia, rischia tanto. Parliamo di un personaggio che il figlio l'ha visto spesso dal vetro del 41 bis, perché mi domando, a un certo punto, quando quel 2010, 2011, era libero, davvero libero, continuare a fare il mestiere? Perché se perdi un colpo in questo ambiente, in un attimo diventi nessuno. Quindi se il nome Massimo Carminati basta sbloccare appalti che per mesi sono fermi, perché la gente ha paura, soprattutto in certi ambienti, un po' più in, quelli della famosa terra di mezzo, quelli che stanno però dall'altro lato, i criminali legalizzati, quelli dello Stato. Lì il nome Massimo Carminati è veramente, come dire, il demonio, mentre invece lui dice, questo lo dico io, perché io non credo sia così, però lui dice che comunque, nell'ambiente della malavita romana, non è che il nome Massimo Carminati ha questa rilevanza che ha nell'ambiente. Cioè lui dice, non sono una mammoletta, non sono l'ultimo arrivato, però non sono neanche il re di Roma. Questo è il concetto. Questo l'avete detto voi, romanticizzando la mia figura. Mi rompevano tutti le palle con sto nero di romanzo criminale, con samurai, con tutte queste cose. Mi prendevano per il culo per questa cosa. Scusi Presidente, ogni tanto qualche parolaccia la dovrò dire, perché mi ricordo lo slam stradale. Allora, pure bolla giustamente di prendere in giro. Quando è arrivato c'è il nero di romanzo criminale, con la detta delle cose, ma chi c'è scamarcio? E questo suo, diciamo, mettersi fuori dalla leggenda, che mi affascina e che mi porta a voler indagare. Perché lui, questo mestiere, continua a farlo in quanto sa farlo più di chiunque altro. Perché lui non parla con lo Stato. Perché lo Stato ha tentato di ucciderlo. Perché un bandito è un bandito. E lui è forse l'ultimo vero bandito rimasto, in quanto quella mentalità nell'epoca di oggi si è molto perduta. Oggi i criminali non hanno più un'etica morale. Mentre lui, dei valori li ha, discutibili, spreggevoli, disumani. Ma una logica la segue. E questa logica è alla base di quest'ultimo processo mafia-capitale. Ma alla base è un po' di tutta la sua carriera. E adesso andiamo a ripercorrerla. Come cani hanno ferito a me e un certo graniti sulla macchina sono stati trovati 145 colpi. Ma capito? A me mi hanno colpito in faccia. Io stavo seduto dietro questa Renault. Capito? Non è che mi hanno detto scendi dalla macchina. Ci hanno sparato e basta. Io non mi sono costituito neanche parte civile contro gli agenti della Digos che hanno sparato. Perché erano altri tempi. Io ho dato legittimità a questo fatto. A quanto pare la guerra con il mondo non è finita, avvocato. Come vede? Io sto al 41 e fuori c'è il mondo che ce l'ha con me. Però non mi interessa. Io posso stare solo contro tutti. A me non mi fa paura nulla. Quando c'è l'errore in mala fede non mi sta bene. Non mi sta bene a me proprio come Massimo Carminati. Quando uno mi vuole fregare, posti, Presidente, non si deve far beccare. Sono un ragazzo sportivo, diciamo, come si dice a Roma. Sono sportivo, però vorrei essere trattato come imputato, come vengono trattati tutti gli altri. Perché è il mio diritto. Perché io posso fare quello che sta da questa parte della barricata. Perché io sono un bandito, sono un imputato. Voi non lo potete fare. Voi non lo potete fare. Nasce a Milano, poi si trasferisce a Roma con la famiglia negli anni Sessanta e subito inizia a frequentare i movimenti MSI e il FAUN nel quartiere Nomentano. Milita per qualche tempo in avanguardia nazionale e inizia subito a partecipare nelle manifestazioni di piazza, gli scontri durante i cosiddetti anni di piombo. Così inizia subito a prendere prestigio nelle strade, come picchiatore, come un duro, negli ambienti dell'estrema destra romana in modo particolare. La fama cresce e riceve varie denunce per aggressione, per reati, violenza, rissa. In seguito dirà facevamo cose assurde, rischiavamo la vita, la libertà. Cioè magari rischiavamo di prenderci 30 anni per nulla, per un concetto ideale. Questa, signore e signori, si chiama gavetta. E non la fai casualmente. La fai perché senti di doverla fare. La fai perché in quel momento, mentre tu rischi 30 anni di galera lanciando qualcosa, picchiando qualcuno, lo fai per te stesso. Perché senti di doverlo fare, perché vuoi vivere quel brivido, perché credi che sia la cosa giusta per te e per la società, anche se quella cosa giusta non è. E qui la differenza tra il bandito e il criminale, perché il bandito poi lo inizia a fare per denaro. Più si alza la posta in palio, più si rischia e più l'emozione è forte. Ma l'aspetto economico è solo parte dell'insieme. Il Carminati, in quegli anni, fa quello che fa perché deve farlo. E qui la differenza, dirà poi l'accattone della banda e la magliana. Noi facevamo quello che facevamo perché volevamo uscire dalla merda, volevamo guadagnare, volevamo toglierci gli sfizi. E quindi hanno fatto questi della magliana le peggio porcate. Una banda di sanguinari li definirà Carminati. Ma diciamo che partono come gruppo che fa quello che fa per una matrice puramente economica. Poi si estende, la cosa sfugge di mano. Mentre dice Mancini su Carminati. Lui è un criminale puro perché lui non è che aveva bisogno di mangiare. Lui lo faceva perché quello che faceva lo rendeva quello che era. E quello che è ancora oggi. Sapendo bene che non l'avrebbero pagato, tutti quanti sono dei truffatori. Cioè questo è il mio modo di pensare rispetto al Comune di Roma, rispetto a Alemanno, rispetto a tutti quanti. Presidente, questa è la prova, mi deve credere. È la prova che io non conosco il sindaco Alemanno e che io non conosco Lucarelli perché sennò sarei andato a buttargli giù la porta a calci. Io rimanevo appasito, io venivo da un mondo diverso. Io quando mi sono avvicinato a questa cosa, non mi rendevo conto che potessero succedere queste cose. Io vengo da un mondo in cui siamo tutti molto più onesti. Un'onestà chiaramente al livello più basso che possa esistere. Però c'è onestà. Noi non è che abbiamo dieci comandamenti, ce ne avremo tre. Però quei tre che ci stanno, dei comandamenti, noi li rispettiamo. L'unica indegalità era quella della mia condizione in cui dovevo nascondere i miei proventi. Anche se fossero legali. Se io non avessi avuto sulle spalle contro la parte civile che voleva 20 miliardi, io mi sarei aperto partita IVA e tutte queste cose sarebbero ufficiali. E ci avrei anche pagato le tasse, avvocato. Quindi la gavetta Massimo Carminati la fa all'interno degli ambienti dell'estrema destra. I cosiddetti giovani dell'euro ai tempi. Anche al romanzo criminale, no? Si gioca con questo discorso dei gruppetti dell'euro quando il libanese va a caccia di chi ha fatto il colpo al santo spirito. Non so se ricordate, tutti a caccia di questo nero. Bene, comunque il fatto che ispira il romanzo e la narrazione è questo. Quindi è Carminati ai suoi esordi. Infatti, pur partecipando marginalmente agli scontri, Carminati gode di un grande prestigio in quell'ambiente, sia di destra e di sinistra, proprio in quello degli estremisti. Perché? Perché lui già ai tempi aveva contatti diretti con quella che era la banda della Magliana che stava nascendo. Quindi lui un po' si è costruito la fama da picchiatore, un po' gli ideali e via le piazze, i primi colpi e tutto quanto. I contatti con la banda della Magliana, Massimo Carminati, c'ha a Malapena 20 anni ed è già uno dei membri di spicco della criminalità romana. Io non so quanto guadagnava con la sua attività criminosa ai tempi, ma visti i risultati già raggiunti, praticamente una persona arrivata a questo punto con un po' di buonsenso si ferma e dice ok, basta così, ho fatto il mio, cioè riparto, metto su famiglia, una vita fatta bene, in passato sono stato quello che sono stato, ma già sono stato qualcuno di grande, no? Se uno deve sfamare la sete di rivalza. Ma non è semplice rivalsa quella che muove Carminati. E' questo il punto cardine. Lui viene definito da Valerio Fioravanti, che è un suo compagno di classe, di scuola, non so se andavano in classe insieme, comunque uno dei compagni con cui inizia, diciamo, a recarsi in certi ambienti, lo considera uno che non voleva porsi limiti nella sua vita spericolata, pronto a sequestrare, uccidere, rapinare, partecipare a giri di droga, scommesse, usura. Sulla droga Carminati non è d'accordo. Carminati dice che ha fatto tutto quello che c'era da fare, ma la droga l'ha sempre schifata. Qualcuno dice che non è così, però pare che lui, insomma, per una questione morale, dice che è più probabile che la droga sia nelle tasche di chi mi cerca che in chi mi trova, insomma, cioè quindi nelle mie tasche di droga non c'è, perché comunque moralmente è sempre stato contrario. Preferiva rapinare banche. Dice che se avessi deciso di fare lo spacciatore nella vita, probabilmente non avrebbero mai acchiappato, e a quest'ora ero ricco, e non ci sarebbero stati questi problemi. Invece lui dice di aver scelto altre strade, e non mi sembra così difficile da credere. Può essere tutto. Dobbiamo stare attenti tra la verità, quello che dicono gli altri, le sue testimonianze, che poi non è neanche importante risalire alla verità. È importante un attimo capire perché e che cosa deriva da questa verità. Ma soprattutto il discorso molto più semplice e riassunto è che Carminati, alla fine dei conti, è un elemento perfetto per entrare nei nuclei armati rivoluzionari. I NAR che intendono appunto seguirlo, coinvolgerlo in molte azioni, utilizzarlo come intermediario nella malavita romana. Insomma, lui aveva già, come ho detto, un certo prestigio è una certa amicizia con Er Negro, che non è nient'altro che il fondatore della banda della Magliana nel romanzo Il Libanese, che dopo un periodo di amicizia, loro si frequentavano in Via Enrico Fermi, in quei bar lì, anche Er Negro era molto simpatizzante, diciamo, degli ideali della destra. Dopo quindi un periodo di amicizia, l'entrata in affari con lui, da parte di Carminati, avviene per riciclare il denaro di determinate rapine. Quindi praticamente Carminati diventa il tramite, grazie ad Ali Brandi e Giuseppucci, quest'ultimo appunto il fondatore della banda della Magliana, Er Negro, diventa il tramite per ripulire a Roma il denaro sporco. Massimo Carminati ha circa 20-21 anni all'epoca dei fatti, ha ancora entrambi gli occhi e mi sento di poter dire che siamo alla fase di chiusura di quella che possiamo chiamare la gavetta, di cui abbiamo parlato in questo primo episodio. La prima vita di Massimo Carminati, un po' l'adolescenza, se vogliamo. Tanti sono i fatti che sembra già di essere alla fine e invece vi assicuro che siamo solo all'inizio. infatti hai visto sull'ultimo articolo dell'Espresso sempre a Pato che ha riportato il trafiletto. Lui e Senese si sono spartiti a Roma. Perché se siamo spartiti a Roma? Perché se siamo spartiti a Roma? Ma che cazzo me ne frega a me di Roma? Che cosa compro e vendo io che mi spartisco? Capito? A me se uno mi viene a cagare qui vicino, beh, mi sposto. Ma che me ne importa a me? Queste sono quelle cose dei diranti loro che gli piace a loro, no, capito? Roma diviso in quattro quadranti queste puttanate, queste minchiate. Il mondo ideale che stiamo cercando di costruire, quello dove non c'è discriminazione, quello dove tutte le forze vengono concentrate verso il bene, verso lo sviluppo, verso il progredire del paese, dell'individuo, non esiste e non esisterà mai. Una verità triste da accettare, il potere politico e non deve tener conto che nella natura dell'uomo c'è qualcosa di fortemente sbagliato che si attiva principalmente durante i tempi morti. Credo sia più difficile gestire l'allegria che la tristezza, la pace che la guerra e non mi stupisco che i rappresentanti del paese, i ricchi, quelli che muovono i fili, le cooperative sociali a volte, stringano rapporti di malaffari. È ovvio, dove c'è qualcosa di sporco come il denaro ci sono elementi sporchi a gestire il tutto e con quelli devi fare i conti. Io vorrei che ognuno di quelli che critica la corruzione si fosse trovato a capo del governo durante gli anni d'oro di Irina è cosa nostra quando era impossibile fare la guerra alla mafia prima che si insediasse nell'ombra quando questa voleva brillare di luce propria davanti agli occhi di tutti quando era spietata non che oggi non lo sia assolutamente però c'è stato un momento storico in cui non si guardava in faccia a nessuno più di sempre perché chi era a capo appunto era il più sanguinario quello che ha cambiato le regole quello che non aveva pietà neanche degli innocenti neanche delle donne neanche dei bambini in ogni caso scendere a patti a volte vuol dire rinunciare alla propria morale egocentrica per limitare danni che altrimenti sarebbero catastrofici teorie ciniche macabre certo del resto io non sono un uomo di potere io ho scelto di non perseguire qualsiasi strada porti ad esso proprio perché sporcarmi le mani non fa per me ne ero abbagliato da ragazzo certamente mi sono avvicinato a certi mondi per scoprirmi e per questo oggi ho delle idee di questo genere qualcuno in ogni caso non la pensa così qualcuno ha capito queste dinamiche tanto tempo fa e ha scelto anche da che parte stare esattamente allora lì parliamo di quello che potrebbe fare un uomo di spettacolo un uomo noto quando ha bisogno di avere qualche cosa che non può andare a comprare personalmente cioè allora diciamo un uomo di spettacolo un uomo noto un politico una qualunque cosa una persona con una certa notorietà con un viso conosciuto non può per dire se ha qualche vizio nascosto andare a comprare per dire della cocaina degli stupefacenti non può andare lui dello spacciatore direttamente si crea un intermediario che sarà poi lui quello che andrà a fare questo tipo di attività e insomma parlavamo di questa cosa qua a un certo punto me ne esco dice quello è il mondo di mezzo cioè le persone che stanno in mezzo fra diciamo l'illegalità la legalità e di fatto ci sta questa parte di persone che stanno a cavallo dell'una e a cavallo dell'altra e offrono che ne so un servizio che può essere utile in una maniera o nell'altra poi lì ci allarghiamo col discorso presidente però sostanzialmente è quello il mondo di mezzo di cui parliamo poi io faccio la battuta quella che è piaciuta a tutti i vivi sopra i morti sotto e noi nel mezzo tutte queste cose leggendari presidente stavamo parlando io e Riccardo Guarnera che avevamo conosciuto io Guarnera forse l'ho conosciuto questo è dell'undici forse l'ho conosciuto il nove cioè quindi ma di che manifesto stiamo a parlare ma di che mondo di mezzo stiamo a parlare stiamo a parlare di chiacchiere al bar che sono assunte a filosofia stiamo a parlare appena io ho aperto lo sportello e si è accesa la luce di cortesia è arrivato subito dentro il primo colpo da dove? cioè chi è che ti sparava? praticamente insomma eravamo arrivati qua ci siamo fermati qua ci hanno sparato visto che il colpo è arrivato dentro proprio nelle vicinanze dello specchietto retrovisore ci sparavano davanti da quella parte là un momento fondamentale della vita e della carriera di Massimo Carminati quello di quando lui dentro un'auto con due personaggi sempre dell'estrema destra a un certo punto iniziano a sentire colpi di pistola decine centinaia così senza una motivazione vera e propria loro stavano cercando altro con loro intendo le forze dell'ordine hanno iniziato a sparare questo sta morendo ammazziamolo le parole che testimoniano di aver sentito e questo è un momento fondamentale perché c'è proprio un cambio cioè dove è il limite per fare del bene quanto si può fare di male la stessa domanda che ci siamo posti nel podcast su San Padrignano su Vincenzo Muccioli qui siamo all'esatto opposto però la domanda è sempre quella come può un carabiniere pronunciare queste frasi non può chi è il buono chi è il cattivo Carminati dice siamo noi i cattivi per questo non è che fanno una controdenuncia no no siamo noi i ladroni voi siete le guardie voi non dovete sparare se non avete un motivo ma se voi sparate noi ve lo concediamo questa è la mentalità del bandito e a seguito di questa sparatoria Carminati subisce sei operazioni tra infarti infezioni un incubo mesi d'ospedale e l'atteggiamento della giustizia verso gli uomini di destra era estremo tortura pura da Carminati si cercano nomi che non arrivano mai finito tutto questo periodo Carminati non ha un occhio vivo per miracolo e tutta questa faccenda si risolve con una condanna che poi è minima per questi personaggi pochi anni sono briciole torna in mente Buzzi e ci arriveremo che commentò sei mesi un anno di carcere di Regina Celi come me li faccio fumando sei mesi no gente che è stata condannata agli ergastoli insomma un focolaio enorme per una faccenda da nulla dove Carminati appunto è parte l'esa a fatti concreti e non reclama nulla parte per il Libano clandestinamente cioè lui e i suoi compagni vanno in guerra praticamente ma non arruolati dallo Stato loro non volevano fare la rivoluzione loro volevano morire sul campo di battaglia capite loro già avevano pronti i discorsi da dire ai loro funerali non le avrebbero detti loro ovviamente però immaginavano a ritorno dal Libano ci sono state diverse rapine abbastanza celebri da parte di questo gruppetto in cui a volte figurava Carminati a volte a volte no comunque diciamo che la fama di questo gruppo accresceva nel settore a volte ci scappa il morto a volte no ma comunque è tutto plateale in questo periodo che poi tutta la vita di Massimo Carminati è stata plateale però questo periodo proprio ogni cosa che accade è al centro della cronaca e questo è un discorso importante per far capire anche la giovinezza di questi ragazzi che vuoi non vuoi un po' ci godono a stare sul giornale no e questo è il mondo da cui viene Massimo Carminati e questo è il problema dell'ideale e ora mi soffermerei un attimo anche sulla figura del pentito secondo queste logiche c'era un personaggio di questi che fu preso e Carminati diceva l'hanno arrestato alle 4 alle 5 e mezza già stava firmando l'atto proprio come a dire neanche dicio due giorni di tortura niente diretto me la canto subito quando invece per questi personaggi qui non tradire gli amici non tradire l'ideale più importante della vita una logica che oggi non esiste più oggi uno su dieci fa così ma che poi che i tempi non è che tutti dicevano così ma vabbè comunque Carminati si sente offeso se gli danno del membro dei servizi segreti lui non lavora per lo stato capite la mentalità in ogni caso inizia un piccolo mutamento credo dovuto alla crescita dove Carminati inizia a passare dal fascista estremo al delinquente comune e nell'ambiente questo atteggiamento viene visto come un tradimento cioè lì un traditore dell'ideale per i soldi uno che non si fa ammazzare più per niente uno che non rischia tutto perché è giusto farlo uno che potenzialmente può essere comprato anche per commettere un reato che senza la parte economica non commetterebbe e che quindi potrebbe essere contro l'ideale stesso quindi Carminati diventa uno che insegue i soldi e sono cose assurde per un idealista ma di che ideali stiamo parlando come peschi peschi in questi discorsi secondo me becchi merda perché alla fine chi fa la morale sono persone che alla resa dei conti nel 90% dei casi si sono persi io vorrei vedere questa gente che ha parlato oggi dov'è magari non è viva ma se è viva è perché da moca ha tradito l'ideale che poi ideali veramente macabri ma di cosa stiamo parlando a un certo punto ti fai adulto questo è il discorso che ha fatto Carminati a un certo punto ti rendi conto che sta roba del rischiare 30 anni per fare un qualcosa perché teoricamente è giusto anche insomma giusto da che pulpito forse non è proprio una cosa da adulti soprattutto se il personaggio in questione la persona fa tutto questo per se stesso per adrenalina per sentirsi vivo in poche parole per fare un riassunto che poi ci porta a quella che è la vera carriera di Massimo Carminati perché qui diciamo se prima si era chiusa la gavetta qui si chiude diciamo l'ideale Massimo Carminati inizia a cambiare mentalità l'ideale politico è importante perché un ideale un bandito ce l'ha sempre qui diciamo che si chiude l'ideale politico nel senso non che magari Massimo Carminati non sia ancora fascista oggi semplicemente cambia mentalità comunque sono anni che fa quello che fa a un certo punto si rende conto vedendo acqua che passa sotto i ponti che sta inseguendo qualcosa che forse non arriva mai forse cerca altro forse si sente davvero insoddisfatto forse non gli piace neanche così quell'ambiente che frequenta perché le persone magari a parole ma poi stacci un po' in ogni caso vale la pena chiudere sti rubinetti Carminati come si dice a Roma inizia a farsi i cosiddetti cazzi sua se c'è una cosa che mi ha colpito una scena che mi è rimasta dentro diciamo in Suburra una delle pochissime scene e quando c'è l'incontro tra Samurai il capo degli Zingari e Aureliano mi pare dove praticamente uscendo dal luogo dell'incontro il capo degli Zingari dice proprio è una grande vittoria sedersi in questo tavolo giusto per far cambiare la percezione che si ha del clan dei Casamonica che è uno dei clan più importanti a Roma assolutamente è una realtà per la malavita oggi che è veramente intoccabile però giusto per far capire il livello di personaggi come Carminati al suo cospetto è un onore sedersi perché non tutti possono avere quel privilegio neanche i Casamonica nonostante tutto il mondo che si è costruito attorno a loro tra l'altro Carminati in alcune intercettazioni attacca proprio gli Zingari dicendo che con loro non ci si può fare affari che sono ingestibili e che il fatto che occupino determinate zone per le cooperative sociali invece è un affare e quindi di conseguenza che stessero dove stanno è solo questo diciamo l'aspetto di business che li lega non un affare diretto ma un affare sociale in ogni caso c'è stato un tempo in cui a Roma non c'erano queste realtà non c'erano questi clan non c'era un volto un nome a cui far riferimento non era come la camorra a Napoli non era come la mafia in Sicilia non c'era nessuno che in qualche modo potesse essere definito alla cronaca come il re di Roma tutt'altro quando uscì Romanzo Criminale la serie Roma si spaccò a metà tra chi non ha potuto non apprezzare un lavoro a livello di fiction meraviglioso ad oggi resta la mia serie preferita eppure mi rendo conto che chi ha vissuto quegli anni chi ha sofferto la perdita di un amico chi è uscito di casa con la paura e forse non ha apprezzato proprio questo questo lavoro anzi e quindi capisco che ci sia tanto risentimento per personaggi che veramente sono stati idolatrati io sto ripensando adesso al pestaggio di Shanghai nella serie questo personaggio che non vuole vendere la roba della banda viene seviziato per giorni fino a che non gli pisciano proprio addosso e viene ributtato nel suo bar e noi quando vediamo questa scena ridiamo perché è simpatica come gestita ma è terribile è pesantissima è violenta ed è quella violenza che è stata realtà a Roma in quegli anni è venuta un'ambulanza del Ceglio con un sotto ufficiale della sanità e un soldato e mi hanno portato al Ceglio intorno alle le due le tre di pomeriggio voglio far presente che il Ceglio non è un ospedale normale in cui uno prende entra e esce il Ceglio è una caserma in cui ci sono carabinieri all'ingresso ci sono la sera addirittura alle 23 mi sembra alle 11 e 30 c'è il contrappello se non ti trovano nel letto ti fanno un rapporto cioè non è assolutamente possibile che io fossi come dice lui all'infernetto lei capisce è una cosa assurda il Ceglio non è il sante Eugenio da cui in ospedale ci visita per dire è assurdo quello che dice non so io che devo fare indagini sei tu che devi dire perché tu mi hai accusato tu mi hai chiamato in corretà addirittura tu menti sai di mentire se io non ero al Ceglio cioè probabilmente passava anche questa capito come ne sono passate tante di bugie che hai detto sai bene io sono responsabile delle mie azioni come voi siete responsabili delle vostre io sono responsabile che sto dentro le gabbie tu non sei responsabile di niente sto fuori sto a disposizione io sono responsabile sapete dove sto tu non sei responsabile dove sto a disposizione a processo c'è maurizio abbatino detto il freddo nel nella serie proprio perché era freddo era uno che ammazzava e la cosa non lo toccava minimamente incapace forse di provare empatia quando si trattava di commettere un delitto in questo caso sta accusando carminati di chissà quale quale cosa e carminati dice che non è vero che in quel caso ha un alibi reale concreto insomma migliaia centinaia le accuse che sono state fatte ai danni di carminati e non solo da quelli che sono soggetti pentiti ma inizialmente a fine anni 70 quando il clan dei marsigliesi viene diciamo distrutto dai vari arresti e via dicendo a roma la situazione è ben diversa e c'è appunto come ho detto nel primo episodio giuseppucci detto er negro che fonda una banda la banda in verità si fonda proprio perché giuseppucci dopo che si è reso conto un po della situazione di roma che c'era questo vuoto di potere va in carcere un periodo questo accresce la sua credibilità si fa delle amicizie che in qualche modo gli fanno capire come funziona un po la realtà criminale lui era un buttafuori fondamentalmente e si rende conto che è il momento di creare una batteria proprio come nel romanzo criminale che praticamente gli viene rubata la macchina con dei ferri dentro è quello che accade davvero e quindi di conseguenza a capo del furto di quest'auto con i ferri dentro c'è un uomo che collabora a stretto contatto con abatino i due si incontrano lui e giuseppucci si uniscono le loro diciamo bande e a quel punto viene fondata questa super batteria che inizia a coinvolgere sempre più gente e che diventa la banda della magliana una banda che poi è stata sanguinaria che ha terrorizzato roma un altro personaggio fondamentale della serie e delle della vita due sono personaggi diciamo importanti in questa fase e sono franco er criminale che nella serie è interpretato dal terribile ma a fatti concreti molti dei fatti della sua vita vengono poi fatti vivere dal personaggio di er satana perché lui è appunto un allibratore di tor di valle dell'ippodromo di tor di valle e poi c'è nicolino selis che invece nella serie è rappresentato dal sardo ed è diciamo il contatto diretto tra roma e la camorra quindi sono questi diciamo due personaggi che prima della banda erano un po' quelli che più possiamo definire i boss lì all'interno nella mala vita romana come vengono gestiti questi due personaggi il primo franchino er criminale era un personaggio abbastanza grosso diciamo a livello di mentalità più che di statura era uno che sistemava le questioni a ceffoni e proprio in durante una delle sue detenzioni con proprio con nicolino selis succede che lo prende a schiaffi per una questione tra detenuti questa cosa a lui non gli cala e un giorno è proprio la banda della magliana quando nicolino diventa uno dei boss della banda a uccidere franchino il criminale fuori appunto dall'ippodromo lo aspettano ed è mi pare abbattino stesso a premere il grilletto mentre il secondo nicolino selis era un personaggio che si è stato uno dei boss della magliana però sempre col fatto che era legato alla camorra non è mai stato visto come membro perché era una realtà quella della banda della magliana che nasceva da roma per roma che nasceva per riscattare comunque delle persone povere se così vogliamo dire delle persone che avevano bisogno di soldi e che volevano imporsi sul loro territorio e lui diciamo che fece un tradimento roba di eroina uscì che era stato arrestato quindi dal manicomio giudiziario ebbe un permesso fu preso per fare una pace stipulare un rapporto di pace invece fu ammazzato brutalmente che poi non è nient'altro che effettivamente la vicenda che coinvolge il personaggio del sardo in romanzo criminale mi ha stupito vedere quante cose effettivamente sono reali in quella serie c'è riprese da fatti reali poi personaggi hanno ognuno ripreso un po di cose un mix di roba romanzato e tutto ma fatti concreti la maggior parte dei fatti è proprio ripresa dalla realtà ed è incredibile perché a fatti concreti ci sono stati dieci anni quelli della banda della magliana ma intensissimi e proprio cinematografici è successo di tutto mi viene da pensare quando c'è stata l'esecuzione dei fratelli proietti che poi danno il cognome proprio al libanese nella serie da parte di antonio mancini che è uno dei membri appunto della banda della magliana che poi si è pentito e di cui abbiamo la maggior parte delle testimonianze ne parleremo molto che era accompagnato dal personaggio che un po rappresenta il bufalo e di romanzo criminale e insieme vanno entrano in questa casa poi sparano appunto come succede un casino devono scappare tra i tetti tra appartamenti insomma una situazione veramente da film e quando li prendono il bufalo di romanzo criminale proprio nella realtà l'unica cosa di cui si preoccupava era che il personaggio dei proietti appunto che a cui aveva sparato fosse morto perché voleva vendicare giuseppucci ammazzato dagli stessi anche se si dice che in verità fosse stato carminati stesso ad ammazzare ma sono dicerie i fatti processuali sono altri mentre invece mancini diceva no speriamo che è vivo perché se no ci sanno l'ergastolo insomma una situazione a metà tra il tragico e il comico proprio comunque torniamo a carminati che cosa c'entra carminati con la banda della magliana c'entra perché lui era il tramite tra la malavita normale diciamo che è la banda lui era quello che portava i soldi e li faceva riciclare tramite appunto giuseppucci che era un suo amico simpatizzante del di tutto il ramo fascista e via dicendo le attività banditesche delle organizzazioni avversive di destra ma in particolar modo dei narra erano contigue a quelle della criminalità organizzata dopodiché si apre un circolo che potremmo definire vizioso virtuoso a seconda dei punti di vista in cui le rapine di autofinanziamento finiscono per portare quasi ad una commistione di rapporti in questa nuova organizzazione criminale che aveva preso il possesso di roma ci sono due tipi di criminali c'è il criminale come mancini il sottoscritto che può anche accampare delle scuse no come dico io a tutte le sere mio padre un mazzo tanto poi a sera a cena la solita minestra fatta col dato stare a un certo punto ne ho fatta più no e c'è che è criminale dentro che non ha nessuna necessità per fare reati però essendo criminale dentro li fa giuseppucci prestava tanti soldi a strozzo era un grande frequentatore di bische ipodromi gli piaceva il gioco d'azzardo proprio e quindi diciamo che l'attività principale che lo legava a carminati diventa proprio questa carminati va a riprendere i soldi prestati e la mano del cravattaro e prendeva anche una bella percentuale ecco il 10 il 15 per cento sul denaro poi riciclato quindi tutto pulito un giorno insomma viene dato un borsone pieno di armi in custodia a un tale aleandri membro di spicco dei nar questo borsone sparisce viene sequestrato aleandri rinchiuso dalla banda qui interviene carminati che riesce a fare uno scambio quindi la borsa è sparita ma il pirata e così veniva anche chiamato porta delle bombe pistole insomma trova un punto d'incontro ecco lì si consolida il rapporto di fiducia perché tra lui è la banda perché carminati diventa uno che comunque risolve problemi un personaggio educato un personaggio che si sa fare i cazzi suoi e che quando si muove è efficiente tutto qui l'unica cosa di cui magari non si voleva occupare di cui non si occupa era la droga lo stesso abbattino durante che ha detto di tutto sulla droga non ha mai accusato carminati che ha sempre ripudiato quella roba lì cioè lui si è occupato di tante cose però ecco fondamentalmente diciamo non ha venduto la droga direttamente anche se a fatti concreti cioè tu sei parte di quel movimento che si si regge diciamo sul mercato della droga quindi insomma c'è chi dice come appunto mancini detto l'accattone non l'avevo ancora detto e quindi di conseguenza tu stavi con noi dice stavi con noi quindi di conseguenza non ripudiare la droga perché sulla droga comunque volente o nolente ci hai mangiato poi insomma c'è una famosa rapina in una filiale dell'euro di una banca storica una rapina a regola d'arte un capolavoro è stato definito praticamente messo da parte sequestrato 35 persone all'interno hanno rubato una quantità di denaro veramente enorme e lì c'era appunto carminati e la sua banda diciamo di di compari stretti questo per dire che carminati era uno che portava soldi portava soldi su soldi da riciclare quindi vuol dire entrate a giuseppucci alla banda a chi lavorava per tutto il riciclaggio carminati era un personaggio comunque desiderato all'interno di quel di tutto quel procedimento che era la malavita romana di quegli anni è sempre stato così lui uno che che portava soldi portava prestigio ed era rispettato alla morte di giuseppucci e abbruciati che diciamo erano quelli che andavano pazzi più per carminati che lo vedevano proprio come un personaggio fantastico no uno che non aveva mai dato problemi appunto e tutti i contatti tutto passa a depedis depedis che nel romanzo criminale sarebbe il dandy è uno che quando muore e muore ammazzato da sempre personaggi della banda che poi insomma carcere non carcere si sentono traditi dal fatto che lui a un certo punto smette di pagare perché i suoi soldi sono tutti puliti muore incensurato comunque muore che praticamente ormai ha talmente affari legali che si tira fuori dalla malavita ed è questo il discorso che un po lo porta a morire non un po lo porta a morire perché la gente inizia a dire questo non ci paga più diciamo io non vi devo pagare io non guadagno più con il mercato nero quindi io non devo darvi proprio niente io sono un entità a parte e questa cosa è come un tradimento e parliamo di un personaggio che aveva rapporti in parlamento con andreotti per intenderci uno che si è fatto seppellire nella basilica di santa polinnare non ti puoi far seppellire in quella basilica è chiusa solo lui strapagato per arrivarci insomma non giusto per far capire la grandezza di questo personaggio quanto 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 sarà comprato a livello proprio legale perché poi c'è la parte in cui la banda della magliana si distrugge finiscono tutti in galera solo lui rimane fuori a fatti concreti solo lui rimane pulito solo lui rimane quello che in qualche modo continua a portare avanti le radici ma disotterrandole dal terreno comunque prima di arrivare appunto alla morte di the pedis della fine della banda che non ci interessa perché comunque non è uno speciale sulla banda della magliana questo ma su carminati e quindi di conseguenza facciamo un passo indietro perché arrivati a questo punto le le strade un po si separano si dividono però carminati resta quello che essendo culo e camicia con the pedis in qualche modo ha le chiavi per entrare dove nascondono le armi della banda il problema qual è che alcune di queste armi vengono poi identificate in quella che è la strage di bologna non sono mai stato accusato non sono problemi miei però sicuramente camminate tu hai venduto carne capito hai venduto carne appeso lo sei bene lo sei bene maurizio sabato 2 agosto 1980 ore 10 e 25 dalla stazione ferroviaria di bologna centrale viene inscenato il più grave atto terroristico nel paese del secondo dopoguerra si parla di strategia della attenzione in italia una teoria politica che indica un periodo storico tormentato conosciuto come anni di piombo e che tendeva la destabilizzazione degli equilibri precostituiti gli esecutori materiali sono stati individuati dalla magistratura come militanti di estrema destra i nuclei armati rivoluzionari appunto tra cui valerio fioravanti e francesca mambro nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di bologna affollata di turisti e di persone in partenza o di ritorno dalle vacanze un ordigno a tempo contenuto in una valigia abbandonata venne fatto esplodere causò il crollo dell'ala ovest dell'edificio viene trovata una valigia per tentare il depistaggio e dentro c'erano varie armi tra cui un mitra che apparteneva alla banda della magliana così sembrava così magari era comunque questo mitra ipotetico era racchiuso in un luogo dove in quel periodo pare solo massimo carminati avesse accesso e lui era il membro diciamo di spicco che aveva a che fare con i narre oltre al fatto che c'erano anche dei silenziatori creati artigianalmente una sorta di marchio di fabbrica carminati era in grado di ricavare oggettistica militare da ogni cosa carminati verrà salvato da un altro pentito si chiama sergio calore è un ex camerata che in carcere ha sposato una brigatista ha cominciato a collaborare e ha già ricostruito la strage della stazione di bologna calore compare sulla scena durante il processo di secondo grado e scagiona carminati il mitra non è lo stesso dice sergio calore scomparirà dalle cronache per molti anni fino a quando nel 2010 verrà ritrovato ucciso nella sua casa di campagna guidonia vicino a roma con 30 colpi di piccone 30 come i denari di giuda e la gola tagliata come gli infami che parlano troppo il suo omicidio è rimasto irrisolto carminati condannato a nove anni di reclusione in primo grado nel 2000 per il depistaggio di bologna l'anno dopo esce indenne da questo processo con la prescrizione per l'accusa di depistaggio la procura generale rinuncia al ricorso quello della strage di bologna è il primo grande mistero di carminati visti come sono andati fatti visto che stiamo parlando di un qualcosa di irrisolto completamente le teorie si spregano è stato usato in qualche modo dai servizi segreti gli stessi che poi lo hanno fatto scagionare semplicemente non c'entrava nulla c'entrava ma ha trovato a ganci forti magistratura che lo hanno aiutato soprattutto quanto era coinvolto carminati in tutto questo un mandante un ideatore semplicemente uno che ha partecipato un po per ideale un po per caso nessuna domanda può avere risposta nuove accuse nel frattempo carminati avrebbe ucciso un tabaccaio sotto richiesta di giuseppucci per uno scazzo che il tabaccaio aveva avuto con depedis pentiti accusano carminati e questo pare riesca tramite contatti con la criminal poll pensate ad alterare un'impronta digitale che sarebbe stata poi la prova per l'incriminazione e quindi esce indenne un'altra volta quando muore giuseppucci sparato davanti a un bar di trastevere parte la sete di vendetta a cui carminati pare legarsi nove giorni dopo una coppia viene scambiata per uno dei fratelli proietti uno dei due che hanno insomma ipotetici mandanti dell'omicidio del boss della magliana e a sparare con un mab e a uccidere altri innocenti pare sia stato nuovamente carminati ma quel giorno era ricoverato per un malore a batino il testimone del fatto dice che l'unico alibi reale in questi casi è la detenzione in un carcere perché con un documento e con un fascicolo ospedaliero loro potevano fare quello che volevano ma l'ospedale in questione il celio una roccaforte un ospedale militare quel fascicolo è inattaccabile e carminati viene nuovamente assolto non si riesce a imputare carminati per crimini seri come omicidi o mafia nessun processo riesce a passare la cassazione la stessa banda della magliana viene giudicata come frutto di un'operazione giornalistica cioè i crimini c'erano la banda era un'agenzia criminale a un certo punto si facevano carico di tanti delitti ma non era la mafia e questo cambia tutto perché carminati si porta a casa una condanna da sei anni e nel giro di poco è nuovamente in libertà vigilata ovviamente si dice che qualcuno abbia lavorato affinché la magistratura non commettesse errori servizi segreti ancora ma cosa vuol dire servizi segreti del resto la costante è sempre la stessa anche quando si parla di un altro delitto la morte di mino pecorelli avvocato giornalista uomo pieno di fonti e che nell'ultimo periodo della sua vita stava alzando un po i toni e un bel polverone sul fatto che lo stato non abbia voluto salvare aldo moro secondo il giornalista democrazia cristiana si sarebbe sempre più spesso servita di appoggi da parte del crimine per risolvere determinate questioni antonio mancini dichiara è stato carminati a sparare perché questo omicidio serviva alla banda per accrescere i poteri tra gli imputati oltre al pirata c'è giulio andreotti rispettivamente sono definiti autore materiale del delitto e mandante entrambi assolti questa volta ancora più clamorosamente perché stavolta sembrava veramente la fine carminati era lì col suo borsone pronto a farsi un ergastolo insomma ne abbiamo dette tante siamo non dico la fine perché non è la fine però siamo alla seconda vita di massimo carminati e lui ha affrontato processi su processi fasi storiche su fasi storiche è stato indagato per qualunque cosa fosse accaduta a livello di cronaca nera in quegli anni e lui passa sempre dal potenziale ergastolo nuovamente alla più beata e civile libertà ma carminati diciamo che processualmente o ha avuto una grande sfortuna l'essere tirato in mezzo a vicende da cui poi in qualche modo è uscito ed esserci tirato in mezzo a torto o al contrario ha avuto una grande fortuna di riuscire a trovare la chiave per poterne uscire la storia di un colpo che ha davvero dell'incredibile a roma sono state svuotate quasi 200 cassette di sicurezza nella banca che si trova all'interno niente meno che del palazzo di giustizia fino a questa mattina credevano che fosse la banca più sicura d'italia con la camera blindata nei sotterranei di uno dei luoghi più sorvegliati di roma e invece con un colpo che ha dell'incredibile una banda di cassettari una specialità della mala romana ha scassinato e svaliggiato 148 cassette di sicurezza nella filiale della banca di roma del palazzo di giustizia di piazzale clodio non capita tutti i giorni un furto così particolare all'interno della città giudiziaria un'istituzione importante sostanzialmente un luogo che sembrava inespugnabile una banca all'interno della città giudiziaria presidiata dalle forze dell'ordine la città giudiziaria un'istituzione a me mi ci viene da ridere il modo in cui sto conducendo questo podcast può sembrare veramente antiprofessionale perché comunque dico quello che penso esco dall'oggettività dei fatti per carità però il discorso è proprio relativo alla prospettiva la prospettiva di chi si racconta a un amico in un bar magari perché è da lì che nasce tutto ed è lì che finisce non stiamo parlando di persone che vengono da chissà quali ambienti sono persone che vengono dalla strada che parlano quel gergo convincono attraverso quei modi io dico mentre accade tutto quello che sta accadendo è entrare con una lista roba selezionata nel gruppo nella batteria personaggi come mimmo il mostro definito così dalla bravura nel suo lavoro non perché fosse brutto come la fame forse un mostro no neanche perché fosse magari spietato semplicemente perché a roma c'è una cultura tra i cosiddetti cassettari gente specializzata in quella tipologia di furto e ognuno aveva il suo stile nell'aprire le cassette e mimmo il mostro era il migliore evidentemente che solo i migliori potevano far parte di questo colpo qua il colpo dei cavò nella banca più importante più protetta più tutto cioè se dobbiamo andare adesso a trovare gli aggettivi per descrivere la banca centrale che vi devo dire non ci sono aggettivi ci sono domande tipo cosa stavano cercando perché avevano tutto il tempo in quanto avevano corrotto tutti perché non aprire tutte le cassette no solo quelle che servivano di cosa stiamo parlando chi di cocaina gioielli almeno 18 miliardi di lire ma non solo perché il valore commerciale di quello che c'era in determinate cassette aperte a macchia di ghepardo quindi mirate questa questa quest'altra e il valore commerciale di quello che c'era non vale niente in confronto a quello che potevano contenere certe cassette un'azione spettacolare nella banca più sorvegliata d'italia senza sparare un colpo senza scazzi come fosse a casa sua magistrati avvocati gente impegnata in processi grossi che avevano depositato anche documenti degli assistiti qualità di vittime livello proprio 100 e lode nessuno ha mai fatto un lavoro così se si tratta di valore potenziale perché con questo furto porti a casa il potere quello vero puoi ricattare puoi fare qualunque cosa perché comunque sono andati a colpo sicuro quindi evidentemente c'erano dei motivi specifici che hanno portato a progettare questa rapina cioè se un magistrato se un avvocato aveva del materiale troppo importante da lasciarlo in giro lo andava a depositare lì perché lì era impossibile che qualcuno entrava rubava faceva come cazzo gli pareva ed è proprio lì che sono andati e hanno preso hanno rubato hanno fatto come cazzo gli pareva più obiettivi più motivi che hanno che sono quelli che hanno portato a progettare una rapina così io immagino mentre la ragionavano uno si guarda dice ma che cazzo siamo a fare che cazzo siamo a dire invece no invece no dall'idea si è passati poi all'atto alla storia e attenzione in cambio di cosa una condanna per rapina neanche rapina a mano armata o roba del genere quanto puoi beccare per una condanna di condanna per un furto così capite il discorso cioè tu neanche dici fatto il furto del secolo e rischio vent'anni no no ne rischi pochi perché non è neanche rapina a mano armata c'è un limite uno sarà dai due ai sette anni per dire e che cosa sono tre quattro cinque anni di detenzione che tra l'uscita prima buona condotta che cosa sono rispetto al potere che puoi prendere da queste cose e che cosa sono tre anni di galera per massimo carminati nulla nulla veramente niente e poi chi ha il coraggio di condannare carminati di fatti nessuno lo riconosce non vogliono neanche firmare i verbali diretti perché tutti hanno paura di lui tutti hanno paura che anche il solo dire potrebbe essere lui guarda non fai finta che non mi guardi guarda un po il dito ci hanno paura durante questa indagine lui è nel pieno di tutti i processi che che ho citato nell'episodio precedente quello da cui è stato assolto cioè mentre lui è imputato per fatti che potrebbero metterlo in galera per tutta la vita e oltre lui cosa fa commette il furto del secolo e sta qui la sua tenacia sta qui in queste gesta di pura personalità che lo rendono un personaggio inimitabile tutto così alla luce del sole nessuno sa niente ma tutti sanno tutto una persona normale generalmente viene condannata anche quando innocente basta che sei accusato e se non ti difendi bene la una condanna la becchi questa è la normalità vuoi o non vuoi lui no e anche qui si appella al parlamento ottiene l'indulto l'indulto consiste in un provvedimento generale che causa l'estinzione della pena un provvedimento per il quale il parlamento condona o commuta parte della pena per i reati commessi mi spiegate perché il parlamento dovrebbe commutare la pena di massimo carminati il mio può essere anche frainteso come discorso che stai a fare stai elogiando un criminale stai dando del fenomeno una persona così ma come potrei non essere affascinato da questa storia cioè se l'avessi vissuta sulla mia pelle no se la guardo a fatti concreti neanche rabbrividisco ma facendo finta che questa sia una narrazione uno storytelling un romanzo perché neanche nella realtà di fantasia esiste un personaggio così questo neanche a gomorra l'hanno inventato un personaggio così neanche altro che romanzo criminale romanzo criminale cosa la verità qui è peggio del film è impossibile da inventare questa storia io mentre la racconto mi domando se veramente sto dicendo qualcosa che è accaduto o se sto sognando perché questo è un pazzo ma un pazzo lucido un pazzo con una logica questo podcast come tutti i lavori che faccio sul tema nascono come propaganda contro la criminalità io credo che il racconto della verità sia sempre un'arma da usare per raccontare ai giovani cosa accade e quello che fa carminati un qualunque criminale è una vita di merda è cioè lui la galera comunque se l'è fatta anche il 41 bis non 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 le pene che meriterebbe per carità ma è un giorno da 41 bis io non lo auguro a nessuno il discorso è che parliamo di uno che avrebbe dovuto avere cinque ergastoli e fino ad adesso a questo punto della storia sarà fatto qualche annetto boh neanche ci sguazza nelle patrie galere perché lui non ha vizi non va con le puttane non tira cocaina non beve non fuma reati a parte è una persona modello il suo medico secondo me è fiero di lui non mangia neanche al ristorante c'è solo sto vizio che deve rapinare deve saccheggiare deve uccidere per sé stesso per il brivido di farlo perché non può farne a meno la sua storia è talmente in equilibrio che io non ce lo vedo neanche che perde la testa per il delirio di onnipotenza o cose del genere io non so cosa dire sono a metà tra l'attratto visceralmente da questa vicenda il disgustato da un uomo che ha letteralmente messo tutti sotto solo ed esclusivamente per il proprio ego perché dopo questo fatto che chiude definitivamente la sua seconda vita ci aggiungi l'indulto libertà 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 e adesso basta così soldi appalate idealismo rispettato informazioni per sedare una guerra no che si dice c'è il potenziale per fare una guerra no 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 carminati al potenziale per fermare una guerra che ancora peggio eppure non gli basta tutti credono che sei il re di roma quindi anche a livello proprio dici voglio essere ricordato nell'ambiente più di così libanese direbbe più in alto del re di roma giusto a morte e niente ragazzi ci siamo arrivati a questo punto non resta che entrare anche nella storia contemporanea visto che non si è fatto mancare niente carminati perché non addentrarsi in un mondo un po più pulito e questa parola mi fa ridere perché forse l'ambiente criminale per lui è stato il più lindo in cui ha messo piede che poi è l'ambiente della vita di tutti i giorni a questo punto in questo momento della sua vita carminati mette la testa a posto si rende conto che il suo nome è più importante di quello del presidente del consiglio e allora smette di fare il rapinatore smette di fare il sicario e inizia un nuovo percorso un percorso tra l'edilizia nel sociale un percorso politico tutto ovviamente nell'ombra nell'altra faccia di quel mondo di mezzo insomma siamo nel 2011 come ho già detto più volte e massimo carminati uomo libero da il via a quella che passerà la storia come l'indagine di mafia capitale il capitale che massimo carminati mette nella cooperativa 29 giugno è il proprio brand cioè il suo nome e la sua faccia e basta questo basta il nome di massimo carminati accanto a quello di salvatore buzzi per agevolarlo nei lavori in emergenza al campidoglio per aprirgli le porte della politica e della pubblica amministrazione perché perché la gente la gente ha paura di massimo carminati non perché lo ha visto uccidere perché è consapevole del potenziale criminale che questo uomo ha e per questo fa paura adesso senza nessun capo di imputazione a carico senza pressioni giudiziarie senza nulla che potrebbe diciamo fermarlo a fatti concreti perlomeno nel breve termine massimo carminati sarebbe nel pieno del suo potere una copertina d'inchiesta dell'espresso uscita due anni dopo la libertà del carminati lo etichetta come l'ultimo re di roma dicono che roma si è divisa in quattro zone le divisioni sarebbero a quanto dicono centro e nord massimo carminati zona flaminio e flaminia appoggiate all'andrangheta nella zona di carminati da san paolo a ostia abbiamo giuseppe fasciani tuscolano e anagnina invece c'è una piccola zona in mano a giuseppe casamonica e tutto il clan mentre zona est sud est è tutta in mano a michele senese con san basilio che si appoggia sempre all'andrangheta si parla di tacito accordo tra le parti poco casino pochi riflettori addosso e si va quel che si deve fare relativamente nell'ombra michele senese era appena uscito dal carcere cosa di cui io sono stato felicissimo perché era una persona con cui ho fatto quattro anni di galera per il processo alla banda della magliana e quando è uscito dopo otto anni di galera l'ho incontrato sono stato felicissimo di vederlo in buone condizioni ci siamo salutati abbiamo parlato del più del meno per un'oretta credo quindi prima di addentrarci dal principio nella nuova vita di massimo carminati dobbiamo un attimo fare il punto della situazione e per farlo bisogna un attimo capire alcune circostanze e alcuni personaggi soprattutto partiamo proprio con questo michele senese questo boss della camorra che opera a roma che sto pensando al processo quando lo hanno imputato per la magliana con carminati sono fatti quattro anni insieme e lui diceva no ma io non c'entro niente non so neanche cos'è questa banda della magliana se volete datemi qualche associazione camorristica a napoli tanto ne ho tante detto il pazzo perché lui praticamente si faceva fare sempre delle delle perizie per uscire la scampava sempre cioè alla fine dei conti era sempre libero e sempre operativo nel suo lavoro diciamo e stiamo parlando di un personaggio ragazzi che si mangiava le persone dentro le carceri questo è ciò che dicono perché uno dice vabbè magari un boss si della camorra che però non sta manca a napoli messo lì a roma uno dei tanti perché ne so talmente tanti napoletani che fanno questo mestiere ad alti livelli che uno dice chi è questo e questo era veramente un pazzo fuori di testa uno che veramente sa il fatto suo uno che conosce certi valori li applica uno anche scaltro perché dura nel tempo incontro le fiamme diciamo che iniziano poi a un certo punto si spengono e lui invece è uno che continua 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 non si ferma non non si pente non non rilascia dichiarazioni è uno vecchia scuola insomma è uno con due coglioni enormi nell'ambiente ovviamente no io cercate di capire quando parlo di questi personaggi io entro in una prospettiva che riguarda quei personaggi quindi lasciate stare la morale un attimo entriamo nel viaggio per quello che è quindi si incontrano questi due pezzi grossi che stando alle inchieste sono due dei tre boss di roma di quattro certo però diciamo che sono i due capoccia più grossi anche quelli che durano da più tempo senese comunque insomma è uno è uno importante grosso che a roma si è fatto bello rispettare e carminati e carminati insomma no si incontrano quando senese esce di galera si si guardano in faccia e inizia questo questo colloquio inizialmente tranquillo pure felice di rivedersi ma come finisce questo colloquio ci sono delle delle riprese eloquenti i toni si alzano senese non è solo ha un guardaspalle carminati è solo questo è un altro dettaglio carminati gira da solo non non è che a un appuntamento del genere si è presentato con persone che potevano coprirgli le spalle così come invece senese ha un'altra mentalità non che non è uno che non c'ha le palle di andare da solo non sto dicendo questo sto dicendo che ci sono mentalità e mentalità determinati personaggi hanno un modo di operare che è quello lì e quindi il guardaspalle c'è difficile che becchi anche un mafioso da solo che va a fare il colloquio con un altro criminale pesante che ci siano questioni risolte o che sia semplicemente una chiacchierata tra amici perché comunque sono umani anche loro il mafioso non non ci va da solo va sempre accompagnato una questione proprio di di figura no e ti accompagna la porta mettiamola così carminati no carminati va da solo carminati se ne frega un cazzo gli amici li becca nei suoi luoghi e approfondiremo anche quali sono i suoi luoghi si incontrano e si alzano i toni e c'è questo movimento di carminati che mentre se ne va si volta e lo indica un braccio verso terra quasi come fosse la fondina l'altro che lo indica quasi come fosse la pistola c'è un gesto cinematografico come a dire se c'avevo la pistola mo ti sparavo o come a dire stai calmo era un'intimidazione insomma indiretta è accaduto qualcosa si sono detti qualcosa qualcosa che evidentemente riguarda il potere i soldi un qualcosa che ha fatto incazzare qualcuno magari uno quando esce di galera si aspetta sempre chi lo aspetta e invece chi lo incontra dice mo che cazzo vuoi da me ho fatto un'ipotesi comunque questa immagine questo questo incontro diciamo fa capire che qualcosa c'è perché nelle testimonianze questi proprio dice carminati io che vendo io che compro che c'avemo roma c'è a fatti concreti dalle testimonianze emergono i reati ma non emerge questo controllo che un controllo per lo più indiretto non verbale carminati e carminati senese senese cosa vendono cosa comprano questo non possiamo dirlo con certezza ma possiamo dire che se parlano qualcuno tace la storia di carminati i suoi contatti il suo vissuto lo rendono l'uomo perfetto per diventare il capo di un clan diciamo che non è come tutti gli altri è il ponte tra il regno dei morti e il regno dei vivi tra il bandito di strada e i colletti bianchi e anche il discorso del clan io personalmente non non son d'accordo perché lui appunto agisce da solo magari gli servono delle persone a delle dei dei personaggi fissi che lo accompagnano certo ovviamente amici storici arriveremo a descriverli però non è che dici il clan come dice a napoli e le famiglie è in altra mentalità cioè lui è sì è nato a milano ma è proprio romano non 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 si rivede in quegli aspetti diciamo di criminalità di banda criminale che hanno diciamo i luoghi dove sono nate quindi appunto la mafia in sicilia la camorra a napoli l'andrangheta in calabria lui è proprio l'uomo della grande città anche il fatto che dice che vuoi comandare roma è roma che ti comanda poi lui l'ha comandata veramente questa città se andiamo a vedere e lo vedremo però a fatti concreti non ha la presunzione di dire comando io al massimo dice no sai io domani potrei essere a cena con berlusconi come è possibile non è una questione di ceto ma una questione di merito ora se carminati è il virgilio che guida i dannati ovunque fino a due passi dal paradiso allora il caronte quello che dalla selva oscura ti apre le porte ed è legittimato ad accompagnare fino all'inferno è salvatore buzzi l'imperatore delle cooperative sociali che dalle radici della sua carriera ha un inizio come bancario ma la cosa non gli bastava e allora faceva truffe con un complice con cui poi smizzava questo amico ricatta buzzi probabilmente perché non lo reputa capace di reagire come ha fatto lui che invece lo ammazza con 34 coltellate qui parliamo era un giovane ragazzo incensurato che ha provato a fare due truffette diceva va bene va male stai sotto ricatto no lui ammazza con 34 coltellate e non stavamo parlando appunto di un criminale di uno che nasce come tale che magari spacciava faceva parte di una banda no niente è uno che lavorava inizialmente con modo e fare onesto poi ha iniziato a fare gli inciampi e la cosa l'ha portata fino in fondo che ha ammazzato subito al primo reato che ha commesso c'è scappato il morto parliamo di una persona che allora ha dentro l'anima il compromesso e lo sposa appena ne ha la possibilità in forma spietata direi viene arrestato e diventa il primo detenuto a laurearsi con 110 e lode mette in scena l'antigone a re bibbia quindi il teatro si dimostra un uomo dalla grande sensibilità artistica sociale culturale parliamo di un talento vero di uno con l'inclinazione una persona che ha primeggiato in qualunque cosa si fosse cimentato quando commetti un omicidio becchi 30 anni dopo che hai avuto tutto perché comunque il tuo peccato è stato non farti bastare quello che avevi che era più che sufficiente per una vita normale c'è un bancario allora è facile cadere in depressione farsi rimangiare dei sensi di colpa non lui salvatore buzzi sfrutta davvero l'opportunità che che una detenzione può darti ovvero diventare quello che sei e io credo a tutte e due le facce della medaglia di buzzi cioè quello che si sa sistemare quindi diventa bancario apre le cooperative sociali fa tanto per il prossimo per i detenuti perché siamo a parla di uno che ha fatto tanto a livello legale e ha fatto tanto a livello illegale già che ammazzi una persona e credo che non basti una vita per espiare la tua colpa ecco parliamo di una persona che evidentemente non si sa tenere la tranquillità questo è il discorso perché altrimenti è un genio cioè questo ovviamente qualunque cosa fa buzzi ha successo detenuto modello viene graziato da scalfaro per l'impegno riversato nei suoi anni di galera e negli anni 90 è già libero quindi terza quarta vita la terza vita è quella da libero negli anni 90 dopo un omicidio quindi lui non è che dici viene si becca l'ergastolo e sta tutta la vita in galera è ancora giovane e quando esce bene o male giovane resta la sua cooperativa nasce nell'85 quindi già prima della scarcerazione buzzi riesce a far lavorare ben dieci detenuti favorendone il reinserimento nel giro di poco la 29 giugno così si chiama la cooperativa sociale diventa una delle realtà più importanti d'italia addirittura nel 2010 a cena si potevano trovare personaggi della politica di spicco come alemanno dirigenti lega luciano casamonica assunto come ex detenuto uno dice casamonica chissà che entra a lazzi no la grandezza di buzzi è questa e che non è strano vederlo con personaggi di quella tipologia proprio perché lui è ufficialmente l'anello mancante se carminati lavora nell'ombra e meno lo si vede soprattutto in compagnia meglio è per lui buzzi si occupa di reintegrare nella società i pregiudicati ha il dovere di assumerli ha il dovere di essere quello che ha a che fare sia con l'ultimo degli ultimi e sia il primo con i primi e il primo tra i primi e quindi fa parte del suo lavoro essere a cena sia con alemanno e sia con un membro di casamonica un volto perfetto immischiarsi con lui vuol dire fare bingo lui e i suoi 1200 dipendenti lui e i suoi 60 milioni di fatturato nel 2014 sarà riccardo mancini fedelissimo di alemanno a far conoscere carminati e buzzi che si erano annusati avvistati in carcere intorno agli anni 80 senza conoscersi poi concretamente o comunque giusto di sfuggita ora cosa può fare ad esempio massimo carminati per lui in teoria poco o niente in pratica tutto ci sono fatture da pagare serve un appalto bisogna vincere una gara basta chiamare carminati basta chiamare il pirata e tutto si risolve nel giro di poco questa strategia vincente porta frutti alla grande proprio la cooperativa 29 giugno arriva sempre più in alto fino ai membri della politica più grossi i cavalli li chiama buzzi ne ha a destra a sinistra perché chi viene eletto oggi magari fallisce domani e bisogna essere sempre ovunque e la cosa non destra neanche troppi problemi in verità fondamentalmente sì se vince una coalizione amica è meglio ma se la situazione cambia si vince uguale alla domanda e lei cosa faceva per il 50 per cento degli utili carminati risponde nulla praticamente non facevo nulla lui dice io io che c'ho bisogno io ho fatto quella rapina bene e che c'è i tricobuzzi con gli lavori utili semiardario perché vuoi essere un criminale stop superati i primi anni 2000 chi è che usa le cabine telefoniche per carità parliamo di un cimelio molto affascinante quelle poche volte che mi tocca perché magari mi si è spento il cellulare mi sento quasi emozionato la cabina è roba da film da adolescente squattrinato eppure c'è tanta gente che continua a usarle qualcuno per necessità private altri per lavoro carminati è uno di questi basta vederlo per capire che sa che non è libero davvero sa di essere seguito sa che ogni suo passo è sotto traccia certo non immagina che ci saranno tra audio e video reperti che coprono fino a 5 ore di documentario ad esempio questo va oltre ogni suo sospetto ma sa che dovrà essere scaltro se vorrà continuare a portare avanti i suoi affari perché un'indagine su di lui è sempre aperta i luoghi di carminati uomo libero la stazione di servizio ogni giorno si mette su una panchina e parla con i suoi amici praticamente è un ufficio per lui dove riceve appuntamenti dove è sotto sorveglianza 24 ore al giorno ad esempio è lì che ha incontrato un giorno gennaro mokbel amico storico di carminati con cui condivideva la passione per il fascismo in tempi non sospetti durante la fase che ho definito di gavetta ex socio gennaro mokbel della buona anima di silvio fanella ammazzato a quanto mi ricordo perché deteneva un tesoretto legato alla truffa carosello ecco carminati si mette praticamente in difesa a protezione di alcune persone qualcuno si è messo a far il cravattaro insomma roba ha fatti concreti di poco conto per lui a noi interessa il fatto che in cambio di questa protezione carminati chiede una villa che ovviamente non può essere a nome suo ma può viverci quindi i criminali insomma come lui vivono a prestanome quindi si trasferisce fuori roma in questa lussuosa abitazione nel 2011 come disse lui tutto ha un costo perché ci interessa questo fatto perché quando poi vengono arrestati tutti questi dell'omicidio fanella e non voglio neanche soffermarmi troppo perché sennò poi andiamo oltre non voglio perdere il punto succede che la moglie di un tale macchi di cellere durante un colloquio in carcere col marito dice che sono tutti terrorizzati che a roma c'è sempre chi sparge terrore e si copre un occhio con la mano come a far comprendere che c'è di mezzo un personaggino che conosciamo bene ovviamente il pirata carminati che non c'entra mai ma c'entra sempre e si rende subito conto che questa indagine lo riguarda già il pirata sta là e subito va in paranoia quando inizia a percepire perché lui percepisce lui ha l'esperienza lui sa prima degli altri dice ma quale re di roma mi ci hanno fatto diventare loro film romanzi ci hanno guadagnato tutti e io ne esco anche carcerato se la sente calda in questa fase carminati è libero e si muove bene quindi dice non mi va di essere incriminato nuovamente e quindi di conseguenza si pure incazza la cosa che più mi colpisce di questa indagine è che mentre accadeva tutto se ne parlava pubblicamente i mille giorni di mafia capitale sono stati raccontati dai telegiornali praticamente in diretta mentre gli esecutori erano liberi tenuti sotto stretta sorveglianza questo è a dir poco si parla di questo carminati dei suoi omicidi dati per certo poi scampati il furto dei cavò i quattro re di roma comunque villa hollywoodiana 53 anni un figlio a londra una compagna fedelissima e quattro cani un libero cittadino come tanti nulla tenente ma insomma una cosa è certa continua a lavorare non è un personaggio fermo non è in pensione non è un lavoro in cui proprio si timbra il cartellino però carminati tu lo vedi quindi chi magari voleva metterlo dentro lo vedeva diceva questo non sta fermo non è uno che magari sta là a passa il tempo lui è attivo operativo e su questo ne abbiamo ampiamente parlato è così è la sua natura è più forte di lui eppure poteva fare una vita tranquillissima ormai aveva fatto il suo invece no lui continua è operativo lui è il suo braccio destro riccardo bruggia un ex appartenente alle bande armate un personaggio che alza un po la voce alza il tiro per chi è meglio che resta nell'ombra ma il lavoro più sporco recupero credo minacce lo fa matteo calvio insomma queste sono diciamo le mani che usa massimo carminati per continuare la sua attività e ci sono scuse plausibili per questi incontri lui e bruggia sono amici da sempre perché dovrebbero per forza occuparsi di malaffari stanno lì seduti si fanno compagnia come tanti vecchi compagni della vecchia scuola è quasi commovente che siano ancora insieme un'amicizia incrollabile ore e ore in corso francia nella stazione di servizio vuoi un saluto al negozio della compagna che sta lì vicino vuoi il bar di fiducia chiaro questa è una vita tranquillissima da monastero lo hanno definito quelli che lo hanno seguito incredibile fino a che estate 2012 si accendono i riflettori su un certo agostino gaglianone detto maurizio un imprenditore edile che pare avere contatti con massimo si apre un nuovo mondo perché fino a quel momento si cercava di incriminare massimo nel settore della criminalità è solo che come lo incastri? già hanno provato tutta una vita ha commesso le peggio cose non gli è mai successo niente e ora come lo vuoi incastrare per roba che magari manco c'entra un cazzo che lui semplicemente appunto mette il brand e allora di conseguenza bisogna seguire un'altra pista una pista legale e allora si apre appunto un nuovo mondo ristrutturazione di un campo nomadi questa è una delle attività edile di gaglianone scusate il gioco di parole la parte committente era la cooperativa di Salvatore Buzzi cazzo c'entra no? da una parte dall'altra si vabbè giustamente il suo lavoro e quindi non lo so vabbè andiamo a vedere dicono quindi parte l'intercettazione con Salvatore Buzzi che è uno che parla con gente del calibro del sindaco Lemanno quindi insomma bella intercettazione anche rischiosa le conversazioni sembrano tutte normali classiche di un imprenditore come tanti ha tante cose da fare insomma il 5 ottobre dello stesso anno 2012 esce però un dettaglio Salvatore Buzzi sta parlando al telefono con la sua collaboratrice gli arriva un'altra telefonata da un altro telefono che ha evidentemente molta più importanza roba a cui si deve rispondere subito prende il telefono e dice ah è Massimo proprio adesso Massimo si guarda voglia di ascolto perché lui è al telefono con la sua collaboratrice arriva questa chiamata fa Massimo Massimo chi? ma sarà lui? e quindi uno si fa due domande il cellulare di Carminati risulta spento fanno un po' di indagini tramite la posizione insomma un lavoraccio vanno a vedere le riprese nell'impresa di Caglianone controllano le immagini e vedono lì Carminati che sta al telefono in quella fascia oraria fanno due più due insomma considerando che appunto siamo partiti parlando di cabine telefoniche forse era meglio semplicemente cambiare cabina telefonica più spesso perché esce fuori che Carminati e Buzzi hanno un telefono prestanome estero e comunicano solo tra di loro da una parte è una genialata certo dall'altra poi diventa il fattore che li incastra e li rende diciamo facilmente accessibili da quel momento in poi tutto quello che si diranno tutto quello che faranno sarà sotto sorveglianza molto molto più che speciale guarda eccomi oh bello ti volevo dire che non è stato inoltrato tutto amico mio eccomi mi senti eccomi sì io ora ti sento mi sento sembra che hanno trovato un milione e mezzo per le recuperative sì amico mio oh bello mio eccomi se riesco a vedere che ho un affare bomba tra le mani speriamo bene speriamo bene allora che sei giornata andiamo solo 24 ore riusciamo a capire che praticamente sono dei citofoni questo per noi è un elemento molto importante perché ci fa capire ci fa diciamo convincere sempre di più quello di cui stanno parlando è una cosa che non vogliono far trapelare all'esterno ad eventuali operazioni di intercettazione che c'è un'altra Un telefono dedicato per ogni amico. E tra questi amici appunto uno degli imprenditori più importanti della capitale. Ma perché questo rapporto era tenuto segreto? Dopo tutto quello che ho detto su Buzzi, sul fatto che comunque è l'eroe dei due mondi, quello che può stare a cena sia con Alemanno che con Casamonica, nessuno fa domande perché appunto lavora nel settore del reinserimento sociale. Comunque, chi di dovere non solo continua a seguire i carminati, ma nel dicembre 2012 vengono riempiti di cimici tutti i locali, tutte le zone che frequenta il pirata. Sopralluoghi su sopralluoghi. Ed è quello il periodo in cui esce la copertina dell'Espresso sui quattro re di Roma. Quindi la situazione è incandescente. E' facile che si lascino dichiarazioni sull'argomento. Quindi il confronto su questa tematica avviene anche con Buzzi. Di fatti Carminati dice, non capisco perché sono in libertà. Giustamente, se le copertine dei giornali gli danno del boss mavioso, praticamente che sta a fa' libero? Ma dove sono le prove? Cioè, fatti concreti, in quel momento quella copertina è calugna pura. Se non fosse che è un fondino di verità. Ma il problema non è la copertina, ma le pagine successive. Si rivolgono a lui gli imprenditori e i commercianti. La sua influenza si è moltiplicata dopo l'arrivo a Campidoglio di Gianni Alemanno. Il business principale è la cocaina. Ora Carminati sa ancora più di prima che sono sulle sue tracce. E ancora di più di prima deve guardarsi le spalle. Ma la cosa è difficile, visto che ci sono microspie ovunque. E qui è bella anche l'ironia che fa Carminati. Dice, mi faccio cremare e buttare nel cesso. Lascio solo un pollice, così magari lo usano per le impronte su qualche rapina. E qui mi viene da un attimo soffermarmi su questo narcisismo che lui ha. Che lo porta a ironizzare, sì, ma anche a non vedere lucidamente la realtà. Intendo dire che è vero a fatti concreti che magari ci sono tante cose in cui è stato tirato in mezzo dove magari lui non c'entrava niente. Oggi qualunque cosa accade a Roma ci sta dietro Carminati. Però a fatti concreti, cioè lui era lì dentro, dentro la celletta, che aspettava una condanna a 30 anni. Perché i pecorelli... Ma che vogliamo fare? Non posso dire che l'ha ucciso lui perché le condanne dicono di no. Però se lui l'ha fatto lo sapeva. Cioè quel ghigno dopo l'assoluzione, quello lì, quello mi colpisce. Quello è il narcisismo di cui parlo. Anche questo modo appunto di autoironizzare su di sé. E fa parte di questo personaggio. Ci sguazza mentre fa queste battute. Accadono comunque tante cose nella quotidianità di Carminati. Perché non è che tutti quelli con cui ha a che fare sono dei turi o personaggi chissà che. Ci sono anche dei bolletti, dei gaggi. Così viene chiamato ad esempio Cristiano Guarnera. L'ultimo di una generazione di palazzinari romani. Pieno zeppo di soldi. Pronto a fare parecchi appartamenti a Monteverde. 90 per la precisione. Con cantiere già operativo. Lo ripetisco. Bello, pieno, zeppo di soldi. Figlio di papà. Figlio di papone. E cosa vuoi che accada? Ovviamente viene minacciato. E allora si rivolge a Brugia per essere protetto. Guarnera ha detto chicco. Ci tengo a dire. Detto chicco. È proprio il classico imprenditore colluso. Non ha morale. Non ha coscienza. È solo uno che vuole appararsi il culo. E che, vabbè, sarà la storia a descriverlo. Brugia presenta chicco al signor Matteo Calvio. Quello che fa i lavori sporchi. Che diventa la sua guardia del corpo. Cioè, praticamente, Guarnera si fa vedere con lui. E questo basta a far cessare i problemi. Poi passano i giorni. I problemi sembrano risolti. Chi ti minaccia se c'è Matteo Calvio alle calcagna? Nessuno. Un giorno avviene l'incontro anche con Massimo Carminati. Nel bar di fiducia. E in qualche modo avviene una mossa intimidatoria. Cioè, per far vedere a questo personaggio, diciamo, con chi ha a che fare, viene chiamato il parcheggiatore abusivo della zona. E Brugia lo intimidisce. Gli dice, ma che vai facendo, no? L'ironia su di noi. Dici che siamo i quattro uomini d'oro. E Carminati dietro quattro uomini di piombo. Lo ripete più volte. Tutta questa messa in scena serve per far sentire il polletto uno di loro, in parte. Quindi forte, intoccabile. E allo stesso tempo mette le regole. Ecco chi siamo. Loro stanno parlando al parcheggiatore, ma in verità si rivolgono a Chicco. È un attestato di merito. Per far capire un attimo la situazione. Per mettere a punto delle regole non scritte, che non vogliono, che vengano violate. Poi qui c'è la storica intercettazione sulla descrizione del mondo di mezzo. I vivi sopra e i morti sotto. Che è piaciuta tantissimo a chiunque. E che, insomma, fa capire. C'è poetica in quell'intercettazione. Un Carminati che ci sguazza in questa fase. Sta facendo il lavoro che ama. E anche qui i rischi sono minimi. In fondo che il reato sta commettendo? Nessuno sta lì al bar a farsi il guappo. A educare e mettere in riga un imprenditore del cazzo. Si prepara a prendere soldi facili. L'unica cosa è che giustamente questi soldi li prende e poi non li dichiara. Ma come dice lui, mi stanno arrivando 20 miliardi di euro che devo pagare per il furto e cavomo. Vi pare che io mi faccio sequestrare i soldi legali. C'è il motivo per cui i Carminati dicono non apro partita IVA. Non faccio nulla, magari. Non faccio risultare questi soldi che sono legali. Perché? Perché giustamente non mi va che poi lo Stato me li sequestra. Il discorso è questo. E non fa una piega fondamentalmente, se andiamo a vedere. Vabbè, comunque. Cosa vuole Carminati? Ovviamente la cartella con i preventivi. Per gonfiare le spese. Per guadagnare senza investire. Soldi puliti. Semplici. Conciso proprio lui. 15 gennaio 2013 Carminati va a prendere Guarnera. Si beccano con Gaglianone, quello dell'impresa di costruzione. I due si lasciano anche andare a confidenza sul vivere fuori Roma. Carminati sta tutto felice, tutto simpatico, pimpante. Lo accompagna a casa a farsi un caffè una mezz'oretta. Dalle riprese si rivedono loro sorrisoni, tutti felici. Arrivano all'appuntamento, si conoscono l'imprenditore, il costruttore. Praticamente inizia Carminati a far conoscere le persone che fanno parte dello stesso settore. Da cui lui poi fa le creste e prende il denaro. A Villa Candida, nel frattempo, ci sono dei palazzi di Guarnera invenduti. Una bella occasione per la coppia Carminati-Buzzi. Così il 25 gennaio si ribeccano e gli si spiega all'imprenditore, cioè a Guarnera, sempre Massimo, è lui che fa queste spiegazioni, che praticamente il comune paga la cooperativa che si appoggia agli appartamenti. Insomma, soldi senza problemi, palazzi coperti, gente che va a vivere in questi appartamenti e becchi i soldi dal comune. Proprio facile facile, tutto a posto e si inizia anche a parlare di futuro. Quindi, no? Insomma, Guarnera, ribadisco, detto chicco, inizia a sentirsi parte del gruppo. Allora dice, già che sto in confidenza, fammi risolve un po' di questioni vecchie, no? Ad esempio, lui lasciò un orologio come pegno a un tizio, un commerciante, questo qui, che poi non pagò e non restituì l'orologio. Una vecchia conoscenza, tra l'altro, di Carminati e Brugia. E allora vanno insieme Brugia e Guarnera. Vanno a casa sua, ma non c'è. Allora, subito, appena il commerciante viene a sapere da persone lì vicino che sono andati sotto casa sua, personaggi un po' pericolosi, subito chiama Brugia. Cioè, ma che sta succedendo? E viene convocato nella stazione di servizio e che fa? Erroraccio. Si presenta con la figlia, con la bambina. La cosa non piace per niente, né a Brugia né a Carminati, che proprio nelle intercettazioni precedenti hanno detto, se viene con la figlia gli do due pizze, proprio. Cioè, per dire, ma che cazzo fai? Crediti che la cosa si risolva perché stai con la figlia. Comunque, loro prendono la bambina e la parcheggiano letteralmente distante. Quindi, insomma, con la bambina in mano vanno poi a parlare il commerciante Brugia. Due minuti, la situazione è già chiara, risolta. Questo per far capire, diciamo, anche i tempi con cui questi personaggi risolvono le questioni. Immagino che l'orologio verrà restituito e magari anche una penale per aver sbagliato, diciamo. Guarnera adesso si sente intoccabile, si sente arrivato, non ha più paura di nessuno, licenzia anche la guardia del corpo Matteo Calvio e si fa anche lo svelto al telefono con una donna. L'ho mandato letteralmente a fare in culo, capirai? C'era Massimo, cioè, follia pura. Adesso si pensa di essere lui, alla pari delle persone che frequenta, quando invece viene solo sfruttato da queste, no? Viene pure chiuso l'affare di Villa Candida, insomma, momento top. Guarnera ha le stelle fino al 20 marzo e mi stupisco che sia durato così tanto senza fare cazzate. Ore 9.30, appuntamento tra Massimo e Chicco, passa un'ora, Guarnera non c'è. Cioè, devono andare in cooperativa per dei fatti nuovi, affari nuovi, con buzzi, roba importante. Commenti a caldo di Massimo sono, ti faccio a brandelli, merda. Cioè, ovviamente, non gliel'ha ancora detto in faccia, perché c'è... Quando Massimo Carminati, nel momento in cui pensa, ti faccio a brandelli, merda, non devi esserci, se no ti fa veramente a brandelli, merda. Quindi, fortunatamente, Guarnera non c'è, quindi quando Carminati fa questi commenti, non glieli dice direttamente, altrimenti si era già impiccato, Guarnera. Comunque, non riescono a rintracciarlo. Che è successo? Che Guarnera semplicemente non si è svegliato, cioè non gli è suonata la sveglia, no? Come se con queste persone puoi fare così, che stai a scuola. Allora, poco dopo chiama la cooperativa per scusarsi, poi prova a chiamare Massimo, e Massimo non risponde. E sono esilaranti le riprese fatte in diretta alla villa di Guarnera, che si sta cagando addosso. Poi va dal padre, che va a parlare con i Bruggia e Carminati. Si vedono le riprese che, insomma, il clima è caldo. Poi va dal figlio e lo cazzia proprio, e dice ma che questa è gente pesante, ma che cazzo fai, te l'ho passato io questi contatti, ma ti sei impazzito. Allora, Chicco chiama Bruggia e gli dice Bruggia, ogni rapporto è chiuso, è finita, non ti preoccupare, i affari sono andati. Però parla con l'amico nostro, perché non presentarsi e non dare spiegazioni non è una condotta accettabile. Chicco Guarnera capisce che la situazione è già ben oltre. Allora, lo vedi che fa avanti e indietro nel suo balcone, inizia a chiamare, 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 allora alla fine gli manda un messaggio a Carminati, un messaggio strappalacrime, dove si scusa infinitamente, chiede perdono per tutto, passano minuti, passano le ore, un altro messaggio, perdonami, per favore, ho solo voi come amici. Anche perché Guarnera fava anche parte di un gruppo di motociclisti, che lo hanno sempre un po', come si dice, preso un po' in giro, l'hanno sempre un po' bersagliato. Adesso, no, da quando sta con Carminati, si fa anche il fenomeno nel suo gruppo di motociclisti, quindi va da loro, fa molto, le cose sono cambiate. Cioè, per lui, la coppia Brucia-Carminati sono praticamente importantissimi, sono il loro, il suo status. Se perde loro, perde tutto. E loro vedi che si schiuma sigarette come un pazzo, perché adesso non è solo il discorso di perdere lo status, c'è che ha paura di essere ammazzato proprio, lo vedi, si tocca le tempie. A quel punto Massimo Carminati, che percepisce, no, capisce che quel bambinone a breve potrebbe suicidarsi dal terrore, e allora, visto che ha raggiunto il suo scopo, ovvero far capire chi comanda, è un conto è chiarirlo a parole, un altro è farlo con la paura, perché solo quando tu sei lì e hai paura dentro casa, capisci che devi comportarti, e di sveglia e te ne metti 15 poi, a quel punto risponde, che poi non è il corpo biologico da sé che si sveglia, in quei casi non serve neanche la sveglia, quando c'è la paura, e gli risponde, Chico, stai tranquillo, ci sentiamo domani, con calma. Paternale, semplice, e si vede Guarnera, che fa il gesto del pugnetto dal balcone, che sorride, ragazzi, è troppo esilarante, cioè questa risposta gli ha ridato 25 anni di vita, ed è proprio da vedere, andatevi a cercare il filmato da qualche parte, di Chico, che col pugnetto, tutto felice, torna vimpante, appena vede la risposta. Bene, questo episodio, è sempre per dare quella risposta, che nasce, diciamo, che ha la base di questo podcast, cioè ancora ci chiediamo perché Massimo Carminati fa questo mestiere? perché adora questo lavoro, adora avere queste dinamiche di potere, adora essere quello che è, ama quello che fa, e fa quello che ama, a costo della sua stessa libertà, perché la libertà, se non puoi fare quello che ami, è peggio della galera. Io l'ho detto, io ho detto prima di far qualcosa, di ripensarci bene, perché poi, le cose non si mettono bene un po' per tutti però, io qui a Roma, sono diventato intoccabile, per come una serie vari dei motivi, non mi può toccarne manco Gesù Cristo. Sì, sì, lo so, lo so di che potenziale c'ha lui. Lui è stato in grado di una cosa in due anni, non sono riuscito a fare lui, in tre giorni non ci ho riuscito. La sensazione che abbiamo avuto sempre, è che Massimo Carminati non doveva chiedere. e non doveva nemmeno ripetere. Eccomi. Ciao, saluto d'ore. Sono qui con l'inger, te lo passo? Sì, grazie, grazie. Ok, ciao. E vai, passa pochi le guai, Deva. Buongiorno, buonasera Riccardo. Come stai? Eh, se sopravviere, se sopravviere. Senti, questo testone di cazzo che stanno con te su quella storia di Marco Polo, se noi facciamo un piano di rientro in cinque, sei mesi, sono disposti a togliere il decreto indiuntivo o se no andiamo avanti col giudice e chi se ne prega? Salvatore? Eccomi, Riccardo, sono questo. Allora, se noi facessimo il piano di rientro su sei mesi, questi geni sono disposti a ridurre il decreto indiuntivo o no? Se non c'è riduzione penso di sì, io l'incontro martedì, l'incontro, perché se non c'è riduzione... Allora, fai questa proposta e fammi sapere. Senti, Riccardo, io ho pure l'ultima fattura quella dei 152 mila euro che non si trovava, è stato che si è trovata da riuscire a pagarmela. La giunta di destra sembra iniziare a perdere colpi. I media li bersagliano. C'è lo scandalo della tangente da 250 mila euro per un appalto che riguarda proprio Riccardo Mancini, quello dell'intercettazione che abbiamo appena ascoltato. Lui non fa passi indietro in questa fase, al contrario, si dà un'altra carica. È sotto l'occhio del ciclone ma diventa amministratore e delegato di una società importante a Roma, Convention Group, una cosa del genere. Questa cosa dà fastidio anche al sindaco alemanno. Non ci dimentichiamo che i due verranno inquisiti e poi prosciolti per questi fatti di corruzione. Mancini e Carminati, come ho detto in qualche episodio fa, sono conoscenti da tanti anni, dai tempi della politica estremista, abbastanza amici da scherzare tra di loro. Uno che gli dà del guercio maledetto che gli fa passare i guai, dall'altro lato Carminati gli dà del ciccione obeso che tra poco scoppia. C'è intimità, insomma, intimità romana. I romani tra amici fanno così spesso e volentieri, si insultano ma perché si vogliono bene per adesso in questa fase. Diciamo che la verità è che come il pirata dice a Brucia durante una confidenza, è lui che ci sta a passare lavori buoni. Quindi è un tassello importante di tutta la premiata ditta, no? Tuttavia, nonostante i lavori, continua a pagare attraverso l'ente EUR un po' così, un po' cosà, no? Ci sono delle cose che mancano all'appello. E questo non è proprio un bel comportamento. Chiaro che pagherà. Magari ci sono problemi momentanei ma adesso basta. Basta così. amico mio. Bello mio. No, te vuoi dire una cosa, io ho sentito il nostro amico Porcone, quello che dice il maglia rotta, no? E per pagare c'è una fattura che mancava all'appello vuole lo sconto anche su quello. Ho detto scusa ma agli altri non gli ho chiedi lo sconto a me me lo devi chiedere. No, va bene, ma lo sconto non scherziamo. Ah, diciamo, ma quella fa parte del vecchio no, no, che sconto, che sconto, non ci fanno sconto. Cioè, io ho detto a tutti, ma agli altri oggi gli ha fatto la proposta che gli ha paghi più milioni se hai fatto sconto. Gli ha paghi tutto. A me che stava lì ci... Porca puttana, porca puttana, cioè, hai capito? Ma io mi auguro che le telefonate ci hanno intercettate così che hai visto ma che non fa lì. Vabbè, ma se ce l'è intercettata, intercettassero, ok, cioè, porca puttana. No, ma abbiamo la vita intercettata. Ma non ce l'ha capito che te lo voglio dire. Chiaramente, cioè, l'importante è che ti pagano tutto il vecchio, amico mio. Questo è fondamentale. quello non ce sa se mi pagano il vecchio, capito? Ah, ah. Poi mi dici, vieni qui, mi fai lo sconto e te la pago. Ti dico, scusa, ma l'altro gli dai 2 milioni se hai fatto sconto. Ma adesso ti richiamo dopo, sto andando là, ma ti ha sentito, non hai capito? Ma poi che sono mai cittadini. Fai un attimo tu e poi mi chiami e io faccio quello che poi mi dici. Certo, 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 e poi vediamo. Ma quale sconto? Non esiste. Evidentemente Mancini si direbbe sta un po' inguaiato, ma sta giocando a un gioco pericoloso, sta rischiando. Carminati allora si rivolge a un vecchio camerata di tanti anni fa, perché Carminati non è che può andare a parlare direttamente, perché quando parla direttamente lui il problema si deve risolvere. Quindi, prima, diciamo, di parlare lui, manda sempre qualche tramite. E allora parla con Carlo Bucci, funzionario di S.p.A., un vecchio camerata, anche lui, una persona fidata, uno della vecchia scuola, che anche Mancini era un camerata, ma non è uno fidato, diciamo. Chiamata rapida, semplice, a tratti intuitiva, che si chiude con adesso gliela faccio chiudere io, punto. Ora, capite l'importanza di quella fase che io chiamo gavetta, perché qui abbiamo quattro soggetti uniti a doppio vilo, che vengono dallo stesso ambiente, Pucci, Carminati, Alemanno, Mancini. Tutte e quattro si sono formati in quelle piazze dove si commettevano reati che potevano farti rischiare una vita in carcere solo per l'ideale. E quindi, di conseguenza, che succede? Che tanti anni dopo si ritrovano tutti a capo di qualcosa di grosso, a comandare su Roma al loro modo, quindi in ruoli di potere, e cercando di fare ognuno il suo. E quindi, a chi si rivolge Carminati quando deve fidarsi di qualcuno? A chi, insieme a lui, ha commesso determinati atti in anni in cui lo si faceva puramente per sentirsi vivi. Non un mercenario. E questo è il discorso. Cioè, quindi, quando tu vieni dall'ideale, come ho detto nel primo episodio, quando una persona ne riconosci il cuore, che poi questo cuore venga incanalato in cose sbagliate, è un altro conto. Quando magari un'altra persona la conosci in carcere e sai che magari è lì perché non ha parlato, cioè, sono un mix di cose che ti portano a fidarti veramente di certe persone da dentro. quindi abbiamo quattro soggetti che vengono dallo stesso background e poi c'è Buzzi che comunque a parte Mancini si è fatto alla galera come tutti gli altri in passato. Quindi capite oggi perché io condanno fortemente il discorso dell'immediatezza? Oggi tutti quanti vogliono arrivare subito, vogliono essere a capo e pretendono di magari comprando le persone appena c'è due soldi vuoi il potere aspetta questi magari non si saranno laureati Buzzi sì in carcere 110 all'odio però a parte questo ecco hanno frequentato un'università differente mezza la strada letteralmente e quindi di conseguenza quando c'hai quella tipologia di laurea lì passano anche 30 40 anni e poi quei meriti te li ritrovi per questo dico non c'è immediatezza per questo dico poi quando si arriva ad alti livelli si ritorna sempre da quelli che hanno coltivato in gioventù e hanno continuato una certa strada Mancini continua a fare il prezioso infatti lui è un po' l'outsider moralmente parlando le parole di Pucci non sono sufficienti Carminati si incazza eh no così no dice muoviene il re di Roma io entro dalla porta principale due frasi e mano a mano i pagamenti si vanno sbloccando un po' qui un po' là però questa frase diciamo segna la fine delle del tirarsela di Mancini si cambia cavallo Mancini è inaffidabile appena uno potrebbe dare problemi quindi paghiamo il vecchio però spostiamoci da qualcuno che in qualche modo potrebbe essere ancora più utile facciamo un altro step si passa al tank Pansironi un uomo che vive nell'ombra di Alemanno uno che se dice una cosa è quella però costa 15.000 a settimana che poi diventano 30.000 per lui 30.000 per la fondazione del sindaco e i contanti per le tangenti scarseggiano insomma non sono facili da reperire se sono soldi che devono essere contanti presi da di là c'è la scena di Buzzi che lo incontra col borsello di certo non mancano però insomma è un bel investimento Pansironi alla fine del rapporto verrà a costare quasi 900.000 euro puliti puliti di tangenti però lui è il papa dei rifiuti i lavori che ti può dare lui non te li dà nessuno mettiamola così riassumiamo tutto questo con il messaggio di auguri di Buzzi per il capodanno 2013 al suo caro amico e gli dice speriamo che il 2013 sia un anno pieno di monnezza profughi immigrati sfollati minori piovoso così cresce anche l'erba da tagliare e magari con qualche bufera di neve viva la cooperativa sociale dove c'è un problema a Roma c'è la mano di Buzzi a risolverlo assurdo che invece che essere un elogio questo sia l'insulto più infamante che io possa fare in questa serie questo messaggio è di un cinismo puro non c'è più nulla di quell'idealista che dal carcere ha meritato la grazia qui c'è il Buzzi assassino quello che con 35 coltellate fa fuori il problema e che oggi si è fatto grosso si è fatto uomo ha capito che si può guadagnare dal dolore degli altri e che non fa quello che fa per il bene comune perché il Buzzi fondamentalmente con la sua cooperativa appunto fa del bene la cooperativa sociale funziona non è che stiamo a parlare è quello che c'è dietro è questo cinismo questo sperare questo volerci solo speculare questo a me non me ne frega un cazzo solo per me solo per saziare se stesso è il suo ego smisurato Buzzi e Carminati nel gennaio 2013 sono i veri padroni di Roma una Roma che non è quella della criminalità o dell'ideale politico è la Roma che pulisce le strade la Roma che accoglie i migranti la Roma che taglia l'erba la Roma che dà lavoro e questo è inquietante e questo è il vero passo avanti che fa Carminati dal furto dei cavò a mafia capitale ed è difficile quasi impossibile pure da da imputare lo era prima quando ammazzava la gente figuriamoci adesso come il bello mio ecco come il bello l'hanno convocato? l'hanno convocato? sì la mattina vabbè io tanto saprò qualche cosa più tardi te l'ho occupato ma guarda fino a ieri non c'era niente ma io l'ho detto pure io stai tranquillo lui si caga sotto di stare tranquillo stai tranquillo che se ci fosse qualche cosa no prima di chiamare lui se ci fosse qualcosa mi chiamare a me sicuramente una minchiata a che ora ci deve andare? a luna è convocato ah vabbè ci sentiamo dopo bella minchia nella destra però nel 2013 accade di tutto se la premiata ditta Carminati Buzzi sta volando a livello di affari a livello proprio di potere eh la politica un po' meno praticamente sono impossibili da rieleggere diciamo la verità lo scandalo dei soldi rubati da Fiorito detto Batman chi se lo ricorda andatevelo a cercare poi c'è la convocazione di Mancini la convocazione diretta in questura che viene messo sotto pressione pesante da tutti quanti e questa volta si deve dimettere per problemi di salute dice sì come no Carminati e compagni sono un po' preoccupati a essere sincero da questo fatto che le indagini vanno avanti e magari qualcuno cede magari proprio Mancini potrebbe dire cose che non dovrebbe dire ecco sia Massimo che Pucci in verità sono sicuri che parlerà allora dopo le prime dichiarazioni spontanee sui fatti insomma Mancini sembra ancora coprire i suoi collaboratori nell'ombra e Carminati Pucci e Buzzi vanno un attimo sotto casa sua dice Carminati tocca fare il male minore se ero sicuro mica ne stavamo parlando insomma non c'è ancora una sentenza di morte ma al minimo sospetto fondato ci sarà la procura gioca forte arrestano Mancini Alemanno si distanzia completamente io non ne sapevo nulla e lo accanna come si dice a Roma un comportamento che a Carminati non piace cioè il disprezzo verso Alemanno da parte sua è sempre più grosso perché come ha sempre detto quella è gente che non segue alcun principio se non quello di pararsi il culo a ogni costo e come meglio gli conviene tocca decidere la strategia di difesa del Mancini e a farlo sono ovviamente Carminati Pucci e un certo Fabrizio Testa un intermediario l'ennesimo tra questi due mondi quello di Carminati e quello della politica e vanno in uno studio legale che sfortunatamente da un po' di tempo è sotto sorveglianza le conclusioni da riferire sono magnate la lingua e mettite a dieta non non penso che serva una traduzione dice Carminati proprio all'avvocato in quell'ambiente non c'è l'obbligo di prendersela nel culo io c'ho l'obbligo quindi io che sono un criminale è di una certa scuola se vado in galera tu ci puoi mettere la mano sul fuoco che me la prendo nel culo io ma di Mancini non mi posso fidare perché lui non viene da quell'ambiente lui è è uno che è abituato bene e infatti dentro attraverso un altro intermediario calabrese portano diciamo cercano di trattarlo bene con amicizie e calore dicono perché comunque la paura di fondo c'è ma Mancini si sta comportando bene sta zitto fondamentalmente poi quei soldi per cui è stato accusato non li ha neanche presi lui fino a prova contraria Mancini in questo momento è un martire sempre stando alla logica criminale perché è ovvio che è un corrotto colluso il peggiore di tutti però ecco sia il peggiore sia almeno leale tra i peggiori che qua nessuno si fida più di lui e comunque questa inchiesta nasce proprio per farlo parlare perché sapevano che potevano in qualche modo costringerlo cioè tra tutti lui era l'anello debole e ve lo dicono tra di loro e questo se non parla quando esce sta ancora a cavallo se parla non c'è posto in cui possa andare a nascondersi lui che era abituato con quattro domestici in casa abituato al lusso sfrenato e adesso non si lava per giorni sta talmente impaurito che non che non non esce neanche dalla cella per farsi una doccia e il carcere è un trauma per tutti sia per chi lo mette in conto gli uomini d'onore e per chi invece non lo mette in conto ancora peggio maggior ragione per chi non se lo farebbe mai e non c'è neanche pensato che poteva finirci e questi sono i peggiori perché sono quelli che fanno più reati fino a che poi non ti prendono e qui c'è la storica battuta di Buzzi che gli piace proprio spettacolare su Carminati che educa mette in riga la gente ci gode cioè va tutto lo svoronice tanto parlando con i giudici non risolvi niente ha parlato Massimo ha educato ma se la ride sotto i baffi e poi la chiude con io tre mesi di Regina Celi me li faccio fumando la storica battuta ci sta ci sta siamo a parlare di uno che è stato condannato a 30 anni figuriamoci proprio se li fa veramente fumando e mo in questa fase poi c'è questa fase in questa fase è un intercalare che uso per far capire i tempi correnti nella storia quindi no diciamo nei tempi invece presenti adesso nella vita condanne ci sono state belle peso quindi insomma credo che la credibilità per dire questa frase ce l'abbia Buzzi non ne dubito considerando che mo insomma sta in attesa di giudizio definitivo si dovrebbe fa 20 anni e si è aperto un pub vabbè è il più matto Buzzi Buzzi è il più matto di tutti ora la domanda sorge spontanea nel momento in cui lo studio legale dove si incontravano questi qui carminati con l'avvocato arriva Massimo entra dice venite in strada e vengono tutti informati che lì ci sono delle cimici portano una persona specializzata trovano la cimice la disattivano la nascondono ce ne sono altre però che fanno loro anziché dire ok la tolgono la lasciano lì come a dire così le indagini facciamo finta di niente come se non ci fosse depistiamo le indagini ma la domanda che sorge spontanea appunto è come ha fatto a sapere che c'erano la cimice Massimo Carminati questa è una di quelle domande che ancora non hanno una risposta hai cantato e suonato anche tu hai cantato hai cantato e suonato anche tu hai fatto il coro no ho fatto il peggio le mani mi hanno presentato a Silvio dicendo si presenta il Chiepolo Recuperative Rosse di Roma ah brava e poi gli ho detto dobbiamo fare questa foto storica ti hai messo un quota con me però ti hai messo un quota con me bellissimo bellissimo ma siccome ha detto a Perlusconi che stasera e faceva una foto con questo scorocciore non siano aziende a centinaia che hanno fatto la foto bellissimo ma di culo ma Silvio poi a un certo punto a un certo punto la domanda dice se stava andare dice se mi fate un'offerta siamo in campagna che merda che merda che sbarri che fa c'è la Presidente 5 mila euro per 5 mila euro canto poi gli hanno voluto 5 mila euro e farlo smettato ecco la sigla oggi ce la fa direttamente Berlusconi non la facciamo partire va bene così ma facciamo un passo indietro la giunta alle manno è abbastanza al capolinea però quando si parla del sindaco uscente in carica comunque c'è sempre quel qualcosa che ti fa pensare ma magari lo rivotano anche se effettivamente c'era poco da essere fiduciosi in quel clima di elezioni è importante diciamo ricordarlo però perché di mazzette a quell'organizzazione politica ne passano e quindi uno ci prova fino all'ultimo e la monnezza è uno degli aspetti più importanti della campagna elettorale e per i cittadini romani è fondamentale perché la città soffre il problema lo sente è così triste vedere il centro del mondo ricoperto di merda e grazie al cazzo con tutte le trafile che devono fare i soldi prima di essere investiti in mano d'opera e via dicendo ne restano davvero pochi l'avversario politico è Marino un chirurgo un bravo uomo che su questo argomento dice liberiamo Roma su questa roba ci mangia chiunque soprattutto Buzzi e Carminati che non gliene può fregare di meno di Alemanno se non fosse che una rielezione vuol dire siamo tranquilli e parati per i prossimi cinque anni perché comunque Marino è un outsider della politica sempre che si corrompono le persone attorno a lui questa è l'unica certezza che abbiamo però si fa più fatica se c'è la tavola apparecchiata perché devi cambiare questo è il discorso insomma un lavoraccio però meglio tenere le cose come stanno per adesso ovviamente Buzzi come dice Carminati è uno che c'è il piano A piano B piano C piano D quindi figuriamoci se a fatti concreti cambia semplicemente è più lavoro se cambia la giunta e Buzzi infatti con le sue cooperative vota al comune diciamo candidati di sinistra perché comunque è una cooperativa rossa però promette il voto disgiunto cioè che come candidato sindaco appoggerà Le Manno proprio frega cazzi degli ideali altro che comunismo e fascismo qui si va dove si conviene basta quindi Salvatore Buzzi appoggia con le sue cooperative con i suoi voti il il sindaco e inoltre finanzia le cene elettorali bel appoggio serve la cavalleria e scende il cavaliere difatti a queste cene c'è anche Berlusconi e quindi la parabola del mondo di mezzo diventa realtà perché in qualche modo anche se Carminati non è fisicamente presente alla cena cioè lui è praticamente la mano lui c'è sempre dietro lui è l'ombra tutti i presenti in quella cazzo di cena in quel tavolo volenti o nolenti sono uomini di Carminati cioè in questa puntata Carminati lo citiamo il meno possibile non farà niente però capite è lì è dietro in questa cena c'è lui che lo sappiano o che non lo sappiano che credano di tenerlo a bada o che siano consapevoli del fatto che sono solo burattini perché guardiamo in faccia la realtà gran parte dei soldi che passano al comune di Roma in è il netto viene filtrato dalla cooperativa di Buzzi e steccato con Carminati stop spunta fuori un nuovo nome della politica che viene avvicinato da Carminati ovvero quello di Giovanni Quarzo che viene fatto pompare da Mario Corsi detto Marione speaker radiofonico sportivo di punta della capitale uno che se ti spinge ti può portare fino a 17.000 voti addirittura anche lui ex narra alla fine sempre là si torna furono tra l'altro lui e Carminati indagati assolti insieme da un omicidio che bella rimpatriata che bello spettacolo queste fasi quando si rincontrano sono le parti che preferisco però ragazzi è dura è dura perché scandali su scandali cioè non ci scordiamo che Mancini dietro le sbarre sta e questo è uno scandalo pesante Guarzo comunque rimane della giunta Alemanno e Buzzi stesso dice Alemanno si circonda sempre di gente che ruba perché se non era per tutte ste piccole cose che poi neanche tanto piccole ma tante restano avrebbe vinto secondo me senza problemi perché Marino rappresenta l'esatto opposto l'onestà allo sputtanamento totale di Alemanno Carminati chiama Buzzi per fargli capire che tocca sta con gli occhi aperti e la patta chiusa come direbbe il libanese alla serie che tocca mettere al sicuro i vecchi affari e iniziare a guardarsi intorno perché i nuovi mi sa che passano da un'altra fonte ed è di fatti Ignazio Marino a stravincere il ballottaggio e inizia subito a fare discorsi del tipo dobbiamo ripartire dall'onestà morale tutto bello tutto giusto magari mi sa che a Roma in quegli anni particolarmente funzionava un po' diversamente caro Ignazio e infatti buon marino sindaco ma la giunta chi sarà Buzzi gira come un pazzo va ovunque è aperta la campagna acquisti tutti quelli che potrebbero essere parte lui li avvicina buon amico mio oh bello mio che dici beh niente stanno in giro per i dipartimenti a trovare persone beh è normale è normale bisogna bisogna vendere il prodotto amico mio bisogna vendersi come le puttane adesso ma in questo periodo chi sai chi vende perché c'è proprio la fante dell'8 settembre si chiama anche bravo anche perché vedo vedo leggere i giornali ci stanno delle ipotesi veramente fantasiose dai alluminate ho andato fantasiose in questo momento solo in quattro sanno quello che succede sono un ordine Pettini Marino Zingarizzi e Meta e allora vai a battere con questi amico mio i nove cavalli sono tutti dentro dice Buzzi devi metterti la minigonna e andare a battere ironizza Carminati il fare tra questi due e gli altri è ricattatorio nel senso che una volta fatta la campagna elettorale arriva la fase del io ho fatto per voi ora voi dovete fare per me allo stesso tempo se qualcun altro fa per voi poi diventa una cosa sgradevole per me questo è il discorso che fa acquarzo è una logica che non lascia scelta se vieni avvicinato da Carminati sei preda del suo volere lui si metterà al lavoro per te e tu dovrai restituire senza via di uscita alla destra la sconfitta tocca comunque ma è proprio a loro che va la presidenza della commissione trasparenza che bel nome l'organo che controlla la regolarità degli appalti che assist meraviglioso qui la nomina di quarzo viene strappoggiata la macchina parte la squadra e la squadra dicono la destra ha tre seggi su sei quindi per avere la maggioranza serve che qualcun altro passi con loro e viene preferito che in questo caso non intervenga direttamente Carminati meglio essere cauti c'è un incontro col senatore Gramazio quello che quando cadde il governo Prodi si quello sbocciò lo champagne e festeggiò vistosamente insomma fate due ricerche così che succede due senatori del PDL passano nel gruppo misto che era gestito da una sola persona maggioranza fatta so tre ne so due a posto quattro seggi su sei in mano a Carminati il 24 settembre Giovanni Quarzo è presidente della commissione trasparenza alemanno dice Carminati in qualità di sindaco doveva fare una sola cosa formare la squadra e a detta del pirata non è stato in grado per questo è crollato beh sicuramente da Carminati qualcosa possiamo imparare su questo metodologie a parte Marino invece è uomo onesto infatti poi si dimetterà proprio perché non scende a patti con il marciume della politica romana è quello che accadrà dietro le quinte lo dice lo dice Buzzi stesso alla sette tanti anni dopo recentemente proprio 2020 2021 e anche se senza immaginare Ignazio Marino che nella sua giunta che viene eletta di questi due assessori e dieci consiglieri sono già alleati con il re delle cooperative sociali Carminati dice sei tu il vero sindaco è come dargli torto si punta all'espansione un nuovo dipartimento che si occupa di pulizie su Roma giardini pubblici scuole roba di questo genere che non rientra nel quinto dipartimento ovvero quello sociale dove è già stato piazzato un uomo dalla premiata ditta con l'offerta di 2000 euro al mese più in più oltre a quello che gli dà già lo Stato Carminati dice al riguardo una persona o si caccia o si compra certo se si compra è meglio così Buzzi va a parlare con questo delegato del decimo dipartimento mi pare perché posso anche sbagliare ragazzi è lo storytelling che conta sono le modalità che ci interessano e l'unica cosa ufficiale che sappiamo al riguardo è che le gemelle nipoti di questo personaggio del decimo dipartimento vengono assunte qualche giorno dopo da Buzzi insomma comprato anche lui Mirko Coratti chi è costui un altro che ha a che fare con appalti pubblici un pezzo abbastanza grosso avverte lui direttamente Buzzi di un bando ama è lui che cerca il contatto un bando che parte da cifre molto più alte della media praticamente ormai la fama di Buzzi è così elevata che è la gente che va da lui se non t'ho comprato mi faccio comprare ci sono magari anche consiglieri più piccoli a cui non serve chiedere nulla però vai portiamo da noi 1000 2000 al mese briciole perché no invece sulle cifre grosse ad esempio questo Mirko Coratti gli dice Buzzi che ne so fammi su un fondo di 3 milioni fammelo prendere 150 mila euro sono tuoi e tra parentesi caffè con Coratti 10 mila euro cioè neanche il tempo di sedersi e già se l'era comprato cioè consapevole del tutto sei seduto zac mazzettina 10 mila sta a posto non dobbiamo dirci niente nel frattempo Alemanno si candida alle europee e Buzzi inizia a chiamare amici del sud per aiutarlo con i voti un amico in Europa fa comodo no visto che non ci sta più a Roma Alemanno aiutiamolo dice anche ex detenuto si è fatto pure 6 mesi di galera ex detenuto aiutiamolo no ma che pazzesco poi succede un putiferio perché Buzzi chiede di inviare allo staff di Alemanno 7 nomi di persone che potrebbero aiutarlo in campagna elettorale ma il collaboratore capisce male e praticamente dà tutta la lista dei lavoratori della cooperativa sociale e quindi vengono contattate centinaia di persone con materiale propagandistico di destra tutta getta di sinistra però erroraccio ennesima stronzata che di certo non aiuta comunque Alemanno non viene eletto neanche stavolta e vabbè fuori dai coglioni sta botta se non porti i voti se non c'è più potere chi se ne frega di te Buzzi comunque su questo errore fa un macello un fiume in piena di rabbia e di insulti ai suoi collaboratori giustamente direi un disastro ma si calma con poco chi se ne frega alla fine l'anno l'ha chiuso con 40 milioni di fatturato solo che la maggior parte di questi soldi che entrano sono investiti concretamente per quello che devi fare quindi c'è l'utile è zero nella maggior parte di questi soldi che entrano per motivi sociali i veri utili si calcolano sugli zingari sugli immigrati le emergenze alloggiative ed è lì che bisogna iniziare un attimo a forzare la mano oh bello mio c'è una notizia clamoruta ottima ottima e clamorosa dimmi amico mio dimmi fammi felice sei felice sto facendo fare il mio raffare della tua vita ecco e allora basta non mi devi dire i minori i minori ci rimangano a 40 giorni no sei un grande sei un grande guarda rivediamo tutto mi vergogno di aver guadagnato questi soldi così facilmente soltanto tu potevi fare una cosa del genere no vabbè è un fenomeno è un fenomeno ho firmato ho firmato bellissimo bellissimo hai fatto una fenomenata io la notizia me la diffonda no no io non dico non so niente non te preoccupa poi tanto noi ci vediamo domani mattina però non vedo questa notizia bello mio che notizia una grande notizia ultima puntata è ora un attimo di tirare le somme abbiamo detto tanto abbiamo ascoltato tanto un personaggio quello di Massimo Carminati da smembrare per capirlo a fondo e qualcosina abbiamo capito come possiamo vediamo riassumere mafia capitale esempio il papa parla di immigrazione buzzi e carminati gioiscono perché loro guadagnano sull'immigrazione cioè quindi capite che logica il papa dice aprite i porti accogliete e chi ci guadagna sono buzzi e carminati un piccolo esempio per far capire insomma com'è sconfortante la logica di questa società chi si occupa di minori immigrati riceve 10 euro in più di un maggiorenne questo diventa il business più grande della cooperativa di buzzi e quando le fatture non sono pagate infatti va in escandescenza la vita di buzzi è veramente assurda ragazzi miei se ci pensiamo un avanti e indietro da quel mondo chiamato moralità uno che nasce inizia a lavorare ha un lavoro buono onesto poi commette un omicidio galera grazia riabilitatore e poi un cinismo smisurato carminati lo vediamo felice inondato di denaro si sente il padrone del mondo perché questi soldi sono puliti a fatti concreti legali legali è raccapricciante il modo in cui si parla di vite umane come fossero oggetti merce di scambio arrivati a questa fase non c'è veramente più nulla di affascinante neanche nel raccontarlo c'è questa roba di tangenti per facilitare appalti non c'è meritocrazia solo minacce nascoste perché non c'è neanche più il bisogno di minacciare basta dire e sarà fatto sarà dato non c'è rispetto di niente e di nessuno solo ode al dio denaro di persone già ricche sfondate che come il nome di questo podcast lo fanno come mestiere questo lo fanno per mangiare ancora di più lo fanno solo per il potere perché il loro mestiere appunto è il potere lo ripeto e siccome non basta mai Brugia e Carminati inseguendo i soldi ad esempio parlando con un commerciante per l'acquisto di un terreno si ritrovano insomma a uscire dal negozio di questo commerciante e quando questo commerciante fa una chiamata è in lacrime disperato un amico gli dice so che fare con gente brutta brutta mannaggia a me mannaggia che cosa staranno tramando nel frattempo i due si incontrano con una banda di rapinatori parlano di armi insomma stanno tramando qualcosa di grosso insomma armi silenziose dice Carminati quando te ne accorgi c'è già sparsa la macchia di sangue porca puttana chissà che cazzo stanno facendo non si capisce però quello che emerge è che Buzzi sta aprendo una nuova piccola cooperativa in Calabria gestita da gente fidata Carminati approva e lo si sente Buzzi parlare al suo amico calabrese di Carminati gli fa vedere gli articoli sul fatto che è il re di Roma gli racconta aneddoti eloquenti su una figura che non è che abbia così tanto bisogno di presentazioni ma il concetto si divide in tre lui è uomo di Carminati uno due non si parla tre a Roma hanno tutti paura di lui sia gli uomini di potere che sono anche più facili da manovrare e anche i criminali nell'ambiente lui è un'istituzione tra questi c'è Michele Senese facciamo un attimo riassunto l'uomo con cui avvenne quell'incontro storico di cui parlammo andate a recuperare le prime puntate se non l'avete fatto quello che finì con Carminati che sembrava che metteva le mani in una fondina e puntava l'arma le mani che però volevano dire tante cose tra questi c'è Ernesto Diotalevi a suo tempo uomo di Pippo Calò quest'ultimo si incontra con Carminati un incontro da evitare insomma per mille motivi infatti non sappiamo cosa si sono detti personalmente però abbiamo le interpretazioni vabbè le intercettazioni di quando si sono ognuno per le sue strade ognuno nella sua macchina e insomma entrambi erano un po' incazzati per questo fatto che si erano dovuti vedere e su Carminati dice Diotalevi la sua forza è conoscere lui sa i cazzi di tutti e poi c'è il clan dei Casamonica Carminati cerca di averci a che fare il meno possibile non gli piace anche perché questi per lo più smerciano droga e a Carminati la droga fa schifo la ripudia e non ci scordiamo Fasciani però siamo in fase di bilanci in questo periodo lui è in ospedale perché è riuscito con perizie molto convincenti a farsi dare la libertà diciamo che riesce a gestire tutto quanto il suo commercio veramente come se nulla fosse lui è il boss di Ostia tra l'altro fondamentale un attimo dirlo perché perché siccome Buzzi ha bisogno di fare dei lavori a Ostia prima preferisce parlare con Massimo per assicurarsi la tranquillità della malavita nel posto stop un attimo al tempo sto registrando da una stanza di Roma sentite dietro di me le macchine il delirio non voglio attendere un momento diciamo in cui c'è la pace la tranquillità perché voglio che entri in qualche modo questo questa Roma perché qui siamo proprio dove Carminati fa sta roba dove c'è stato Buzzi quindi di conseguenza quando sentite i claxon quando sentite le macchine che si muovono è perché io sono qui a raccontare questa roba dal posto questa è la Roma che pompa questa è la Roma di Carminati e Buzzi era che comunque è finita però si possono pure da una cazzo di calmata portarci loro dicevo Buzzi va ad Ostia in un vecchio casolare ad aspettarlo c'è proprio Massimo Carminati la questione è relativa a un credito di 90.000 euro e arrivano i due rappresentanti del credito però già che siamo di passaggio facciamo un po' e dopo insomma questa faccenda che abbiamo appena sentito l'intercettazione raccontata direttamente dal Buon Buzzi che quanto ci sguazza quando deve parlare di Massimo nei Carminati ci sguazza come non mai Buzzi dichiara Ostia è a posto Ostia è nostra insomma al prezzo di un milione di euro che insomma tra appalti e roba varia non è neanche troppo Carminati ha assicurato che i lavori non avrebbero avuto problemi di malavita a Ostia cosa faceva? gli domandarono per questa cifra e lui risponderà in aula di fatto non facevo nulla altra frase che ho già detto ma che ci tengo a ripetere comunque Carminati non si sente poi così al sicuro adesso e ne sono diciamo testimoni queste notti passate a fissare i monitor a casa i carabinieri fanno la ronda attorno a lui lui lo sa che è solo questione di tempo e la compagna accusa tutto questo quella sicurezza ostentata negli affari quel potere che obiettivamente aveva e ha poi hanno comunque un contraccolpo perché Carminati è umano come tutti quanti cioè tutta Roma parla del fatto che negli ultimi anni lui ha ripreso pieno potere anzi più di sempre e sempre più rapidamente cambia telefoni con chi può si incontra insomma ha capito che sta pieno di cimici che sta sempre con le guardie addosso dice magari le ho visti una volta di troppo ma mai una volta di meno le perle di Carminati Michele Senese tra l'altro becca delle guardie muoversi attorno alla sua auto la notizia si sparge poi sempre Michelino Upaz chiamato così perché era buono a farsi fare le perizie per uscire di galera viene arrestato e con lui 40 esponenti del clan Faggiani insomma iniziano a fare la resa dei conti le forze dell'ordine è tempo di raccolta e per Carminati è la prova che a Roma si sta muovendo qualcosa di grosso insomma lui è il prossimo viene arrestato anche un suo amico uno tranquillo se così vogliamo i annilli uno che non conta un cazzo un'amicizia recente si conoscono le compagne e via dicendo a Massimo tra l'altro dispiace un sacco perché lui lo sa che è stato arrestato questo qua a causa sua per fargli terra bruciata insomma infatti il procuratore di Roma di quel periodo Pigliatone uno che ha catturato Provenzano insomma la criminalità l'ha combattuta a testa alta cioè gli dice ai annilli che ci sta arrivando a Massimo che questo arresto era solo per cercare di farlo parlare e adesso Carminati parla addirittura sotto voce all'orecchio anche a Brugia il racconto quello che ha fatto ci passiamo con me lo conosciamo davvero un mese sì appuntamento qui da l'*** campagna comincia o ti convene eccetera eccetera ricomincia la cosa diciamo no perché dicevano abbiamo vogliato perché ci hai truppato scusate tu mi dici dopo cinque anni ho fatto questo motivo io se voglio che il motivo non è insomma ci siamo ortenuti un po' c'è tutto c***o per fare il quarto io sai che c'era un mino penasta e me ne vado non lo resta ma lo resta ma lo resta è successo chi ha detto dove cazzo pensi di andare ha messo il mero come senti stai seduto stai seduto scusa scusa sto seduto stai seduto ma che c***o che mi ha fatto dove c***o pensi di andare penso penso che ho fatto l'hai fatto una vita io non sapevo io non sapevo che ci sarebbe stato quell'incontro su ogni cosa si fa un film su ogni cosa facciamo un film diciamo che in quell'occasione è stato Buzzi a fare il film perché lui che ha raccontato in cooperativa lo sapevano tutti che si vedeva si vedeva chiaramente che era un gioco tutti a ride stavano tutti a ride ma hanno riso sì ma hanno riso più quei due ragazzi avvocato dovevano dare 90.000 euro se ne sono andati con 30.000 euro pagabili in un anno ma che stiamo a parlare ma lì ha pianto Buzzi ma mica hanno pianto quei ragazzi ma non diciamo sciocchezze inizia una sorta di battaglia a ogni mossa c'è una contromossa fa controllare tutto cerca di sgamarli tutti però insomma non è facile e la paranoia sale a picco cioè questa fase in verità per lui è molto divertente perché quando sale il rischio è lì che se la sguazza Carminati anche se è consapevole che poi magari tornerà dietro le sbarre e magari cioè è questo che lui vuole del gioco il rischio per questo rifà sta roba che lui con tutti i soldi che ci avrà che lo devono pagare un milione per non fare un cazzo credete che è contento quindi qui un po' la paranoia però è il contraccolpo diciamo è lo scotto da pagare per il rischio quindi ecco quando poi vieni preso è brutto però in questa fase un po' se la sguazza un pochino sotto sotto la sua follia Carminati è a Londra dal figlio quando la compagna viene chiamata da Brugia perché ha delle informazioni pare che c'è di mezzo un imminente provvedimento da parte dell'autorità verrà arrestato quindi insomma lo chiama e cerca di far capire oh stai là non ha chiamato l'amico delle uova non tornare Carminati no no io ritorno ma che stiamo a scherzare non è disto a casa cioè Carminati proprio se ne sbatte al cazzo chiama l'avvocato e l'avvocato dice non c'è niente perché effettivamente in quel momento non c'era niente e poi c'è questa intercettazione bellissima tra lui e il figlio che giustamente era preoccupato e ve la faccio ascoltare perché un attimo sono comunque esseri umani e qui c'è veramente un lato umano che esce fuori no che comunque fa parte di questo personaggio e vorrei che che emergesse visto che siamo alla fine vorrei che venisse ascoltato papi oi bello come stai? bene bene non posso stare tranquillamente mi raccomando no no a me non mi preoccupa qual è che stai tranquillamente? bello a me le cose piacciono affrontate non mi piacciono che non stai come vabbè c'è una cosa prendi fa fa non c'è problema va bene va bene tu comunque fa il bravo ci sentiamo domani dopo domani va bene va bene un bacione un bacione grande un bacione grande tranquillo ciao bello ciao 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 no però sai che c'è comunque ha tassuto tutta la mia storia la galera le cose ma è un ragazzo adulto come testa e ha visto cose che tanta gente non era male ha fatti con l'uomo nella piccola attraverso il vetro ti dico sai sono cose che ti segnalo le segnalo hanno segnalo me sotto certi aspetti ottobre 2014 carminati sta progettando la fuga continua a dormire fuori casa ha spostato i suoi averi e così nel novembre dello stesso anno dopo mille prove da parte dei dei carabinieri lì nelle vie nelle viette e via dicendo questa macchina questa macchinina gira viene accerchiata e viene arrestato la scena è celebre la conosciamo tutti l'abbiamo vista tutti e quindi carminati è dentro l'inchiesta diventa pubblica iniziano i processi passano gli anni sette anni dopo siamo nel 2021 e forse anche nel 2020 non vorrei non mi fate andare a ricontrollare in questo momento comunque 2020-2021 massimo carminati viene scarcerato perché cadono i termini di prescrizione perché fino a prova contraria e quando tu sei non sei condannato sei innocente sei innocente basta e quindi giustamente il processo è lungo sono passati sette anni non possiamo tenerlo ancora dentro perché? perché carminati in questo momento si è imputato si è condannato in primo grado però non è condannato in cassazione quindi lui fino a prova contraria è innocente e quindi lui era dentro anche ingiustamente se vogliamo era dentro perché è sotto certa sorveglianza pazzesco dirlo così ma facciamoci due conti un attimo sette anni ogni ogni sei mesi hai un mese e mezzo di buona condotta quindi hai tre mesi di scalo ogni anno quindi sette quattordici ventuno ventuno mesi quindi praticamente due anni quindi siamo sette più due nove già scontati mettiamo che viene condannato a quattordici anni ad esempio lui intanto sta continuando a scontare anche se è libero c'ha le ore per rientrare e quindi praticamente lui continua a scontare in libertà vigilata ma lui sta alla pompa di benzina in questo momento cioè lui continua a frequentare gli stessi luoghi non so cosa sta facendo non lo posso sapere però io so fonti certe che lui comunque fa la sua vita come se nulla fosse e legalmente è anche giusto così eh che uno sbaglia le cose però cioè uno viene condannato sui reati fondamentalmente quando viene assolto viene assolto quindi abbiamo detto sette più due mettiamo che la Cassazione arriva tra tre anni no sette più due nove nove più tre dodici mettiamo che lo condannano a quattordici restano due anni due anni fai la richiesta domiciliari libertà Massimo Carminati è libero adesso e probabilmente sarà libero domani male che va si dovrà fare un altro paio d'anni se li fa fumando un paio d'anni quindi Carminati è libero in questo momento che io sto parlando eh è libero sarà magari questo podcast finisce qua magari lui non li fa più reati perché giustamente si fa i cazzi suoi si gode i suoi soldi si gode la sua casa si gode la sua vita ma questa storia non finisce qui questa storia finirà solo quando avremmo davanti il cadavere di Carminati stesso e comunque alla fine dei conti ci domanderemo sempre ma sarà davvero lui? di Carminati Grazie a tutti. Grazie a tutti.